Bene, sono partito con la registrazione per cui vi do il benvenuto e il buon pomeriggio, benvenuto a questo seminario che purtroppo, come tutti sappiamo, casca in un periodo difficile per tutti quanti, per cui io innanzitutto mi sento di augurarmi e augurarvi che tutti siate in buona salute e che l'unico problema sia sostanzialmente quello di rimanere un po' tutti o a casa oppure per chi come me ha la fortuna di avere lo studio molto vicino a casa, in studio ma da soli e quindi senza più i contatti che erano abituati ad avere. Io mi presento, per quelli di voi che non mi conoscono, molti credo che mi conosceranno perché mi hanno visto o in corsi tenuti sul posto o in questi corsi online, sono Gianni Rossi e faccio parte del Collegio Geometri di Padova di cui sono anche responsabile dei corsi online che organizza appunto il mio collegio. Con me ci sono come al solito i geometri Corrado Brindani del Collegio di Reggio Emilia e il geometra Sergio Ivaldi del Collegio di Alessandria. Poi Corrado e Sergio hanno il compito di monitorare le vostre domande, i vostri commenti e poi se del caso mi interromperanno per porre le domande che farete in modo tale da poterle sbiscerare diciamo per tutti. Ma questo adesso lo vedremo quando vi darò un po' le istruzioni su come va seguito questo seminario per chi è nuovo dei nostri corsi. I temi di oggi sono quattro. Il primo tema è la formazione appunto dato che quest'anno è l'ultimo anno del triennio per cui abbiamo pensato di un po' dare le informazioni corrette su come va completata la formazione nell'ultimo anno del triennio. Questo lo dico perché poi molti mi chiamano tutti i giorni e hanno dei dubbi perché non sanno quando scade, quando è partito il loro triennio, quanti crediti eccetera. Quindi vedremo un po' tutta questa parte qua partendo proprio dal regolamento del consiglio nazionale. Poi vedremo invece un nuovo servizio che riguarda la cartografia catastrale dell'agenzia delle entrate. Voi sapete che nel 2018 appunto l'agenzia delle entrate ha reso disponibile tutta la cartografia catastrale, l'ha resa disponibile anche a enti o aziende che vogliono metterla a disposizione via web e quindi da quel momento lì c'è la possibilità di andare a vedere la cartografia catastrale direttamente sui siti internet, cosa che abbiamo fatto anche noi ovviamente. Ecco il servizio che vedremo oggi va un po' oltre, un po' direi molto oltre nel senso che sopra la cartografia catastrale si potranno consultare i punti fiduciari e le misurate. Ecco questo è un servizio del tutto gratuito che vi mostrerò e che quindi rende ancora più utile poi la consultazione della cartografia perché ovviamente quando uno deve studiare un suo lavoro catastrale normalmente deve andare a vedere quali sono i punti fiduciari, deve andare a vederle misurate per poi confrontarle con la misura che fa lui eccetera, per cui vedremo un po' questa parte qua. Anzi ne approfitto per dire che siccome questo seminario vedete ha vari argomenti a livello di crediti formativi, a livello di portale SINF bisognava indicarne uno per cui probabilmente voi quando riceverete i crediti troverete un po' questo titolo, ecco perché non era possibile indicare quattro argomenti ma uno soltanto. Bene poi vedremo invece, parleremo di Pregeo, la nuova versione 10.6.1 uscita proprio all'inizio dell'anno a gennaio e lì saprete che questa nuova versione ha posto parte delle nuove funzionalità di utilizzo ma anche proprio dei controlli nuovi sulle superfici, sulle particelle eccetera per cui parleremo un po' di questo in previsione poi di un corso invece molto più esteso, molto più dettagliato che io, Sergio e Corrado otterremo qui a fine aprile, quindi vedremo un po' un'anteprima di quelle che sono le novità del Pregeo nuovo. Poi parleremo di un'idea che è venuta sempre appunto a me Sergio Corrado di poter diciamo instaurare delle consulenze online tra geometri, quindi se c'è un geometra che è esperto in una certa materia e invece un collega che non è esperto ma che deve affrontare un lavoro di quella materia, lì vedremo sostanzialmente come poter interagire online. È un po' un'idea che ci è venuta a noi perché in questi anni, sono cinque anni che facciamo questi corsi online e in numerose occasioni siamo stati poi contattati da diversi colleghi che ci hanno chiesto, nel nostro caso erano temi che riguardavano la topografia, il catastro, le riconfinazioni e quindi lì noi con questi colleghi abbiamo fatto dei webinar, gli abbiamo dato un po' i nostri consigli e quindi da lì è nata un po' l'idea di dire ma allora cerchiamo di estendere questa modalità anche ad altri colleghi, a chi vuole, quindi farò vedere poi come si potrà diciamo intraprendere un po' questa nuova iniziativa. Naturalmente all'inizio adesso, siccome oggi ci sono tantissimi anche nuovi iscritti che non hanno mai seguito i nostri corsi, vi darò un po' le istruzioni, almeno per quelli appunto che sono nuovi dei nostri corsi, su come seguire i seminari, su come poi ricevere i crediti formativi, il test eccetera. Ecco chiaramente quelli di voi invece che sono già abituati a seguire i nostri corsi, questa cosa qui le sanno ma purtroppo essendo che ci sono anche colleghi nuovi devo purtroppo perdere anche un po' questo tempo qua. Allora vado via veloce perché ripeto qui non c'è poi moltissimo da capire, diciamo che voi avrete visto che appena siete entrati nel webinar vi è uscito un messaggio che vi dice che il vostro audio è spento, un messaggio del genere, perché ovviamente adesso qui oggi siamo anche intattissimi, ma normalmente noi lo facciamo sempre, diciamo che all'inizio i microfoni di ciascuno di voi sono spenti perché se no sentiremo tutti i rumori di fondo, se no la lezione verrebbe costantemente interrotta e quindi non avrebbe molto senso che lasciassimo i microfoni aperti, ma voi potrete invece intervenire alla fine, qui noi alla fine apriremo il dibattito se rimarrà tempo ovviamente e per chiedere la parola vedete che avete questa iconetta della manina alzata per cui cliccando questa icona della manina alzata noi ci accorgiamo che voi avete chiesto la parola e possiamo aprirvi il microfono e quindi potrete anche fare domande, commenti, quesiti in voce. Ecco quindi qui diciamo è detto sostanzialmente quello che ho detto adesso. Poi ecco per intervenire durante la sessione invece essendo che la parte parlata diciamo la parte così con gli interventi in voce è lasciata alla fine avete già capito perché avete già scritto numerosi messaggi finora e anche prima di iniziare la registrazione che nel pannello del webinar avete questa cella nella sezione domande in cui potete scrivere le vostre domande, possono essere domande, possono essere commenti, possono essere cose che voi ritenete di doverci comunicare. Chiaramente noi li leggeremo in particolare Corrado e Sergio e diciamo che se sono domande a cui principalmente Corrado che segue di più questa parte qui ma anche Sergio ecco se riescono a rispondere perché la risposta è così singolare, è specifica e non coinvolge in un tema che può essere di interesse di tutti quanti vi rispondo direttamente lì altrimenti loro mi fermeranno e se la domanda capiscono che è di interesse generale e la domanda andrà poi cioè io la ripeterò oppure Sergio Corrado la ripeteranno e quindi poi andremo a sviscerarla diciamo direttamente in voce ecco e qui poi c'è da dire che ecco questo discorso che ho appena detto quando noi leggeremo una vostra domanda un vostro commento queste questi questi diciamo frasi che scrivete vengono viste solo da noi docenti e non dagli altri partecipanti per cui non fatevi scrupoli se ritenete che state per fare una domanda un commento che vi sembra banale eccetera per cui magari uno ha paura di far brutta figura per capirci perché tanto le vediamo soltanto noi ripeto sono domande così più semplici neanche le diciamo a voce rispondono direttamente Sergio Corrado se invece sono domande invece pertinenti al tema che stiamo trattando e di interesse generale allora verranno lette quando verranno lette non diremo mai il cognome quindi noi diremo soltanto il nome Andrea Giovanni Giacomo in modo che sia mantenuta la privacy ecco per cui non fatevi nessun scrupolo di questo tipo bene poi vediamo cosa dovete fare a partire da stasera quando sarà terminato il seminario in diretta e potrete poi andare a scaricare il materiale fare il test oppure rivedere rivedere la registrazione ecco qui diciamo che succede questo nella vostra pagina personale del corso quindi voi se entrate fate il login sul sito corsigiano.it e andate direttamente sulla vostra pagina personale troverete chiaramente la tabellina del seminario e qui troverete stasera ecco stasera intendo molto tardi perché ci vogliono i tempi taxi per caricare tutto ma troverete il bottone file che vi permette di scaricare qui scaricherete un file zip con dentro le slide il materiale i file che stiamo vedendo che vedremo in questo seminario poi invece sempre a partire da stasera tardi o al massimo da domani mattina se non faremo in tempo caricare il video stasera appunto troverete che il bottone che adesso avete cliccato e che si chiamava webinar si chiamerà invece video video perché cliccando lo vedete parte si apre una finestra con la registrazione del seminario quindi da lì potete cominciare a vedere la registrazione chiaramente per voi che avete visto in diretta sarà un rivederla per chi invece non è riuscito a collegarsi oggi in diretta e comunque non aveva la possibilità di vederlo in diretta lo vedrà nei giorni prossimi quindi vedranno la registrazione del seminario e qui poi vedete che se volete vederlo a tutto schermo qui dalla finestra c'è questa icona cliccando la la schermata va a tutto schermo per cui potete vederlo a tutto schermo e poi ecco una cosa a cui tengo molto dire l'ho messo infatti in grassetto è che il video della registrazione vi rimane a disposizione a tempo indeterminato ecco io questo lo dico con un po di orgoglio perché ho visto che molti altri enti che fanno formazione invece i video delle lezioni lasso disponibili soltanto per la durata del corso e poi spariscono ecco mentre invece noi lasciamo a disposizione per sempre in sostanza questo è così una cosa che abbiamo deciso col mio collegio perché riteniamo corretto che se uno ha pagato adesso questo qui è gratis per cui ma nei corsi a pagamento riteniamo corretto che se uno ha pagato per vedere un corso poi le lezioni registrate li rimangono a disposizione anche dopo ecco perché poi magari se pensiamo ai corsi quelli tecnici veri e propri uno magari segue un corso non so sulla sull'efficienza energetica sulla sicurezza sulla topografia sui nostri corsi sulle riconfinazioni poi magari gli capita un caso un anno dopo da quando ha fatto il corso e credo che sia una cosa così utile interessante che lui possa andarsi a rivedere il corso perché nel frattempo magari non si ricorda bene tutto e quindi ecco riteniamo che sia una cosa ben fatta di fatti abbiamo visto che è stata apprezzata molto andiamo avanti e veniamo al discorso del test e dei crediti per ottenere i crediti allora vedete qui sempre nella tabellina del seminario che trovate nella vostra pagina personale dopo aver fatto il login sito tenete presente che se per caso non vi appare subito la pagina dei vostri corsi c'è il menu c'è il menu profilo i miei corsi che vi manda direttamente lì ecco lì nella tabellina del corso dicevo troverete il bottone test sempre stasera tardi o al massimo domani mattina e per cui quando vi sentirete non è necessario farlo subito potete farlo anche nei prossimi giorni poi vi dirò la scadenza potete cliccare e parte il test il test è composto da 15 domande avete un'ora di tempo per rispondere quindi un'ora è ampiamente sufficiente non dovete avere la preoccupazione che il test sia difficile perché non lo è per niente perché le domande riguardano quello che verrà detto durante questo seminario qui quindi il test non ha lo scopo di imporre domande concettuali con domande tecniche per capire se uno effettivamente ha capito fino fino alla fine tutto quello che è stato detto il test serve principalmente per verificare che uno il seminario o in diretta o registrato lo abbia lo abbia visto lo abbia ascoltato ecco perché vogliamo tagliar fuori ovviamente quelli che invece vorrebbero avere i crediti senza nemmeno seguire il seminario né in diretta né registrato per cui questa è un po' la logica e ripeto non fatevi nessun problema perché è molto semplice da superare e qui cosa succede una volta che avete sostenuto il test le possibilità sono ovviamente due o non lo avete superato ma guardate noi abbiamo il 98 per cento degli iscritti ai corsi che il test lo supera il 2 per cento che lo supera il primo tentativo poi vedremo che ce n'è un secondo quelli che non lo superano sono il 2 per cento dei classici furbetti li chiamo io che vorrebbero avere i crediti senza nemmeno perdere il tempo di guardarsi i seminari quindi la percentuale è quella che lo supera il primo tentativo ma nella malaugurata ipotesi che non superaste succede questo che il bottone test si tramuta in questo menoncino qui e con questa opzione qui report vedete non le domande sbagliate attenzione ma vedete gli argomenti delle domande che avete sbagliato perché non vedete domande sbagliate direttamente perché poi tantissimi mi scrivono mi dicono ma io ho fatto il test l'ho fallito vedete 70 per cento perché per superarlo vedete che bisogna superare almeno l'80 per cento delle domande per cui su un test di 15 domande dovete rispondere correttamente ad almeno 12 quindi 3 potete sbagliarle ma non più di 3 allora cosa succede che se uno invece ne sbaglia 4 o 5 ripeto un caso abbastanza raro per fortuna poi mi dicono ma perché non mi dici le domande che ho sbagliato ma non te le dico perché primo sarebbe troppo semplice allora dopo rifare il secondo tentativo sarebbe tutto da ridere e secondo perché poi se ti dico le domande che hai sbagliato e tu quelle giuste le sai poi passi tutto a un collega che deve ancora fare il test e lui il test veramente lo fa senza neanche più guardare il seminario questa è un po' la logica quindi qui vedrete un report poi lo vedremo sulla slide successiva che vi indica gli argomenti delle domande che avete sbagliato poi potete chiaramente attivare il secondo tentativo e poi invece potete scaricarvi un pdf che è riepilogo delle vostre risposte che questo poi lo vedremo cioè questo qui è un riepilogo che non vi dice appunto le domande che avete risposto in maniera corretta e quelle sbagliate vi dice semplicemente la risposta che avete dato voi questo è un po' quello che avete se non superato il test ma ripeto è un caso molto molto raro se invece lo superate allora vedete qui con l'80% vengono segnati i crediti qui purtroppo ho lasciato la slide vecchia per cui del corso di martedì scorso per cui erano quattro crediti lì invece nel vostro caso in questo corso qui in questo seminario qui sono tre quindi qui voi vedrete tre crediti e vi diventerà disponibile il bottone per scaricare già l'attestato di partecipazione che attenzione non sono ancora i crediti è soltanto l'attestato di partecipazione allora qui potete scaricarlo poi dopo alla scadenza del seminario quindi la scadenza tenetela bene in mente è il 30 aprile 2020 per cui il test lo dovete fare entro il 30 aprile altrimenti poi il seminario scade i crediti non li prendete più vi viene reso disponibile il report finale per cui questo report qui adesso vedremo vi dirà esattamente le domande a cui avete risposto correttamente e quelle sbagliate bene allora andiamo avanti qui adesso appunto vi faccio vedere un po' i report che vi avevo accennato in quella slide riepilogativa qui vedete ecco questo qui è il report che vi viene così mostrato se non avete superato il test e vedete qui non vengono scritte le domande ma vengono scritti gli argomenti e se non guardate questo argomento qui che è relativo a un corso effettivo ma vedrete nel caso di oggi i vari punti che abbiamo visto all'inizio vedete gli argomenti per i quali avete sbagliato una o più domande quindi lì dovrete andare nelle slide rivedervi quegli argomenti lì oppure riascoltare la lezione il seminario registrato e andare poi a rifare il test nel secondo tentativo e poi appunto vi dicevo vi viene scaricato un pdf con il riepilogo del vostro test le vostre domande e risposte ripeto questo riepilogo semplicemente vi dice vedete qual è stata la risposta che avete dato questo è utile perché se per caso non superate il test con questo avete così il riepilogo delle risposte che avete dato quindi potete anche lì un po cercare di capire quali sono le domande sbagliate e poi invece alla fine del seminario quindi la scadenza dopo il 30 aprile vi potete scaricare il riporto finale quindi qui vedete esattamente le domande a cui avete risposto in maniera corretta e quelle che invece avete sbagliato ecco questo è un po quello che c'era da dire per quanto riguarda il test poi ecco cosa importante è questa per tutte le comunicazioni che facciamo noi come organizzatori del corso come collegio di padova e voi se volete scrivere qualcosa inerente al seminario vedete che voi sempre sulla vostra pagina personale avete il bottone vai al forum del corso cliccando il bottone vai al forum del corso arriverete sul forum del corso e qui troverete tutte le nostre comunicazioni quindi qui troverete anche la comunicazione di quando caricheremo i crediti formativi con le istruzioni di come si deve fare poi per rispondere al questionario del simf per avere la selezione definitiva eccetera ecco per cui non fate conto sulle mail ecco noi non mandiamo mail perché le mail abbiamo visto che fanno una brutta fine vanno magari in spam sfuggono uno non le legge eccetera noi usiamo il forum del corso per cui voi quando entrate nella vostra pagina personale cliccate il bottone vai al forum del corso e andate a vedere ogni tanto quello che trovate scritto naturalmente per quanto riguarda le comunicazioni da parte nostra normalmente la comunicazione poi riguarda soltanto l'assegnazione dei crediti e poco altro quindi non è che noi mettiamo chissà cosa però ecco la comunicazione ufficiale del caricamento dei crediti la trovate nel forum ma ovviamente poi il forum per me vi permette anche di scrivere commenti fare domande o quesiti anche dopo che avete seguito il seminario oggi in diretta oppure chi l'ha seguito registrato chiaramente chi lo segue registrato non può fare nessuna domanda e quindi c'è questo mezzo del forum per andare lì e portare appunto i propri quesiti commenti inerenti al corso ecco qui l'ho messo bello in evidenza in giallo per le vostre comunicazioni utilizzate il forum e non le mail ma lo dico non perché mi dispiace ricevere mail io mail ne ricevo tantissime rispondo sempre anche a tarda sera anche di sabato e domenica quindi le mail io le uso moltissimo quindi non mi dispiace per niente ma è perché con le mail succede che poi uno fa una domanda magari molto pertinente molto così sensata e se li rispondo per mail la risposta e anche la sua domanda la resta tra noi due e basta mentre invece se scrivete nel forum quella domanda e quella risposta diventano poi visibili a tutti e quindi ottimizziamo un po' i tempi ottimizziamo anche l'efficacia di questi corsi bene detto questo preambolo su come seguire il corso passiamo al primo argomento che è la formazione la formazione continua prevista dal consiglio nazionale geometri e geometri laureati per cui io qui ho preferito partire proprio dal regolamento perché ho visto che molti geometri non lo conoscono o lo conoscono in parte sanno qualcosa o qualcos'altro non lo sanno per cui io vengo tempestato di telefonate di colleghi che mi dicono ma i crediti sono 60 ma sono 20 all'anno sono 60 in tutto ma quando è che scade eccetera eccetera allora io qui adesso parto dal regolamento e poi ho messo giù delle slide in cui proprio rispondo ho messo le domande più frequenti che mi arrivano e le risposte allora qui il consiglio che vi do è di andare sul sito del consiglio nazionale che è questo cng.it vedete qui sulla home page del sito del consiglio nazionale cliccate sul riquadro formazione ma ovviamente molti di voi sono già molto pratici adesso io lo spiego anche per chi non avesse mai visitato il sito cliccate sul riquadro formazione entrate sulla sezione formazione appunto lì cliccate su regolamenti circolari sulla sinistra e poi da lì vedete che diventa disponibile il link per scaricare il regolamento sulla formazione continua sotto trovate quello vecchio ma naturalmente voi dovete qui andare a vedere questo che è quello in vigore che è entrato in vigore il primo gennaio 2018 perfetto io qui comunque l'ho messo anche in pdf e lo metterò anche nel materiale che potete scaricarvi stasera per cui lo trovate quindi non serve neanche che andiate tanto sul sito l'ho messo perché effettivamente è un regolamento molto chiaro molto ben fatto secondo me tra l'altro guardate sono tre pagine tre pagine e mezza e non è che sia una bibbia da leggere per cui vedete potete anche leggerlo io ve lo consiglio perché spiega tutto molto bene naturalmente adesso io non sto qui a leggere il regolamento perché appunto ho condensato un po' tutto su queste slide allora vi dicevo ho un po' impostato queste slide con la domanda e la risposta e allora vediamo vediamo qua la prima quando inizia e scade il triennio questa è una domanda che mi viene posta spesso e quindi qui diciamo c'è da capire che esistono due categorie tutti quelli che ero scritti all'albo prima del primo gennaio 2015 allora per loro siccome 2015 è stato il primo anno della formazione continua c'è stato già un primo triennio vedete che è decorso negli anni 2015 16 17 poi dopo è partito il secondo quindi adesso siamo nel secondo triennio che riguarda gli anni 2018 19 e 20 quindi siamo oggi all'ultimo anno del triennio che scadrà il 31 dicembre ecco questa è la scadenza ripeto per chi era iscritto all'albo prima del primo gennaio 2015 poi invece allora ci sono i nuovi iscritti chi si è iscritto nel frattempo dopo del 2015 che si iscrive adesso eccetera i nuovi per i nuovi iscritti l'obbligo della formazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'albo per cui se io nuovo iscritto mi sono iscritto oggi che è il 31 di marzo del 2020 per me l'obbligo scatta il primo gennaio del 2021 perché il primo anno dell'iscrizione ovviamente è già parziale per cui viene data la deroga su anno lì ma cosa interessante che però se io mi iscrivo adesso che è il 31 di marzo e da qui al 31 dicembre 2020 svolgo attività di formazione faccio corsi online faccio corsi in aula eccetera per cui maturo crediti formativi quei crediti formativi mi vanno assegnati comunque al triennio che poi partirà il primo gennaio successivo quindi se io quest'anno maturo dei crediti me li trovo in dote già l'anno prossimo quando di fatto partirà per me il triennio poi quanti cfp si devono maturare qui vedo una marea di domande ma qui vedo che sergio corrado stanno rispondendo privatamente per cui vado avanti tranquillamente ma chiaramente poi sergio corrado potrà interrompermi quando sarà il caso ecco l'altra domanda è quanti crediti devo maturare allora i crediti da maturare sono 60 nel triennio nell'intero triennio perché molti sono convinti che essendo 60 c'è il limite di farne minimo 20 all'anno 20 primo 20 secondo 20 terzo no non c'è questo questa regola qui io posso maturarli tutti e 60 il primo mese del triennio oppure visto che siamo invece nell'ultimo anno io potrei essere a zero e maturare tutti i 60 crediti anche tutti quanti in dicembre di quest'anno quando scadrà poi il triennio quindi non c'è questo limite dei 20 all'anno come tanti pensano poi c'è il discorso ecco se maturo più di 60 crediti cosa succede perché poi cerchi chi ovviamente fa molti corsi quindi va oltre i 60 allora oltre i 60 si prende la metà del numero eccedente adesso vedremo gli esempi quindi numero di crediti oltre i 60 viene diviso per due in sostanza e fino a un tetto massimo di 20 e vengono assegnati al triennio successivo esempio supponiamo che io arrivo al 31 dicembre di quest'anno e in questo triennio qui ho maturato 90 crediti sono più di 60 ovviamente cosa faccio faccio 90 meno 60 vengono fuori 30 diviso due viene fuori 15 questi 15 crediti che vengono attribuiti al triennio 2021 2023 se invece di crediti ne ho maturati ben 120 allora 120 meno 60 fa 60 diviso due fa 30 ma siccome c'è il tetto dei 20 io me ne porto in dote nel triennio successivo soltanto 20 bene altra domanda che mi viene fatta costantemente è in che anno vengono assegnati i crediti allora i crediti vengono assegnati nell'anno in cui si è tenuto il corso o meglio nell'anno in cui si è concluso l'evento formativo anche se i crediti poi vengono caricati all'inizio dell'anno successivo per esempio tutti i nostri corsi che poi vedremo sul sito corsi giornali i corsi che facciamo noi del collegio di Padova anzi magari adesso qui intanto lo apro che così poi potrà essere utile vederlo lì vedrete che ecco qui tutti questi corsi qui per esempio che noi stiamo facendo quest'anno scadono tutti il 31 di dicembre e allora molti mi dicono ma però se scadono il 31 di dicembre poi dopo i crediti allora mi vengono assegnati nel 2021 e quindi uno ha paura che non è dentro i 60 crediti nel triennio corrente no anche in corso che scadono il 31 di dicembre i crediti li vengono assegnati nel 2020 perché il corso di fatto si è concluso nel 2020 e quindi i crediti vengono assegnati nel 2020 perché poi il collegio ha tempo 60 giorni da quando è terminato un corso per caricare i crediti quindi non c'è la paura, non deve essere la paura di rama il corso finisce il 31 di dicembre e poi il collegio di Padova i crediti me li carica a gennaio e quindi vanno fino al 2021 e non ho risolto il problema dei crediti, no non è così, i crediti vanno caricati sempre con la competenza dell'anno in cui si è tenuto il corso bene a questo punto qua allora poi vediamo anche questa tabella che è riportata nel regolamento del corso nazionale che dice quali sono gli eventi che danno luogo ai crediti, naturalmente gli eventi principali sono, perché vedete sono ben 14 ho visto che molti poi non sanno tutte queste possibilità ma adesso le elenchiamo anche se poi alcune sono abbastanza diciamo così poco praticabili ma è bene saperle, allora chiaramente eventi, corsi di formazione e aggiornamento sapete che i corsi danno un credito all'ora, questi sono i corsi in aula, vedete, questi sono i corsi fa, devo dire formazione a distanza che danno sempre un credito all'ora che sono come questi, questo che stiamo facendo, quelli che facciamo noi online poi esami nei corsi previsti a norme specifiche, sapete che ci sono alcune materie, alcune norme che prevedono degli esami per cui se uno fa uno di questi esami prende 3 crediti, se uno fa corsi o esami universitari perché magari vuole fare, diciamo che è laureato oppure sta facendo un corso di laurea prende, cioè vengono assegnati 8 CFP per ogni corso di formazione universitario quindi ogni corso di formazione universitario dà 8 crediti qui vedete che nella colonna limite c'è scritto nessuno, cioè tutti questi eventi che sto elencando adesso non hanno nessun tetto limite, mentre quelli dopo il tetto ce l'hanno allora poi abbiamo visto corsi di formazione post secondari ecco uno dice ma quali sono questi corsi di formazione post secondari basta andare qui vedete articolo 3,3 lettera J ecco la quali 3,3 è frequenza a corsi di alta formazione post secondaria quindi post scuola secondaria diciamo quindi post diploma compresa istruzione tecnica superiore nelle discipline tecnico-scientifiche di cui è presente comma 2 eccetera quindi adesso qui è chiaro che sono tutti questi corsi che non è che siano molto frequenti però è giusto saperle queste cose per cui quindi avevamo detto eravamo arrivati qui corsi di formazione aggiornamento FAD Q vedete qui è FAD e qui è FAD Q la Q sta per qualità i corsi FAD Q sono corsi sempre a distanza, quindi sempre online ma di qualità poi sta qualità si estrinseca nel fatto che anziché fare come noi per esempio che facciamo la lezione e poi c'è un test finale dell'intera lezione qui ci sono delle pillole da un quarto d'ora poi ogni quarto d'ora devi fare un piccolo test per vedere se hai capito quel quarto d'ora lì poi devi andare avanti con quel quarto d'ora mi ero anche interessato avevo provato così a ipotizzarne qualcuno ma poi praticamente ho visto che si diventava scemi perché ogni quarto d'ora sto piccolo test eccetera cioè era una cosa troppo secondo me però ecco ci sono quelli che li fanno e ne avrete sentito parlare insomma ci sono vari enti che fanno corsi di formazione e questi danno ben due crediti all'ora perché invece i corsi normali in aula danno un credito all'ora e anche quelli FAD come i nostri danno un credito all'ora questi ne danno ben due e quindi viene sfruttato per questo motivo qui però c'è tutta questa trafila di questi test eccetera eccetera e anche questi ne hanno nessun limite poi ci sono i seminari i seminari sono seminari, convegni, giornate di studio quindi non veri e propri corsi tecnici in cui si impartiscono proprio delle tematiche tecniche effettive in dettaglio ma così giornate informative più che formative questi danno un credito ogni due ore quindi darebbero un credito, mezzo credito all'ora in sostanza però i seminari vedete cominciano ad avere un credito posso maturare al massimo 24 crediti per cui se uno dice io vado invece che fare corsi vado a dei convegni tanto nei convegni devo stare là devo ascoltare non devo fare nessun test nessuno mi chiede niente e sto là tranquillo poi se seguo seguo se non seguo pazienza ecco va bene lo può fare però sa che non può fare 60 crediti tutti di questa roba qui quindi può farne al massimo 24 da parte eccedente non li viene nemmeno considerata ecco quindi da qui ne deve fare altri 36 poi per arrivare a 60 poi visite tecniche e viaggi di studio queste chiaramente sono cose in queste abbastanza rare ma per dire se uno fa una visita tecnica fa un viaggio di studio cosa bisogna fare in questo caso qua bisogna documentare al proprio collegio di appartenenza il viaggio che si è fatto la visita tecnica eccetera e se il collegio dalla documentazione prodotta riterrà che sia un evento meritevole assegna i crediti sempre in funzione di uno ogni due ore e qui con un tetto massimo di 12 poi ci sono le commissioni per gli esami di stato per cui se uno è un commissario per gli esami di stato acquisisce 6 crediti fino a un massimo di 12 quindi può farlo per due volte in pratica questa cosa qui poi ci sono relazioni o lezioni in eventi formativi per esempio ecco noi che facciamo i relatori di questi corsi seminari e possiamo avere fino a 3 crediti per ogni relazione per ogni evento formativo con un massimo di 18 oppure se proprio uno fa attività di docenza nell'evento formativo ecco noi quando facciamo i corsi effettivi siamo docenti e come docenti acquisiamo due crediti all'ora per ogni evento anche qui con un massimo di 30 poi c'è la possibilità di pubblicare articoli scientifici o tecnico-professionali quindi se uno è un esperto di una materia scrive articoli scientifici li pubblica eccetera su riviste specializzate di quella materia riceve fino a 6 crediti anche questo va tutto documentato non è che uno possa dire guarda io ho scritto l'articolo sono stato bravissimo e datemi che bisogna documentarlo al collegio di appartenenza fino a 6 crediti con un massimo di 18 poi ci sono gli affidatari cioè il geometra che fa fare il tirocinio a un praticante e allora in questo caso qui per il fatto di fare il tirocinio a un praticante acquisisce 10 crediti formativi per ogni praticante con un massimo di 20 per cui con due praticanti il massimo di due praticanti in sostanza oppure se viene fatto un contratto di apprendistato con un apprendista però attenzione non è che sia un apprendista che metto a fare fotocopie perché vedete se andiamo a vedere la lettera I del decreto scusate del regolamento la lettera I dice ovviamente il decreto perché sento tutte le sere parlare del decreto per le forme di sostegno per l'epidemia dice che il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al testo unico c'era quindi non è che io posso prendere un apprendista ripeto e metterlo a fare fotocopie devo prendere un apprendista a cui gli faccio fare attività di alta ricerca quindi non c'è da aiudersi su questo punto qua questi sono gli eventi che danno diritto a avere i crediti e altre due domande così finali quando si intende superato un evento formativo allora per i corsi di formazione e i seminari convenzionati di studio l'evento si intende superato dimostrando di aver seguito almeno l'80% delle ore di formazione e questo succede anche nei corsi online per esempio nei nostri corsi facciamo il caso di un corso che duri 10 lezioni bisogna che uno superi il test di almeno 8 perché allora si supera il test di almeno 8 dimostra che ha seguito almeno l'80% delle lezioni e quindi acquisisce i crediti dell'intero corso quindi non è che gli vengono deportati il 20% che gli prende tutti i crediti ma deve aver seguito almeno l'80% delle lezioni questo è importante poi ci sono le deroghe e perché anche qui tanti dicono ma io se ho fatto questo ho fatto quell'altro ho avuto impedimenti ecco le deroghe sono precisate dal regolamento e si possono ottenere in questi casi maternità o paternità sino ad un anno quindi una geometra donna che ha ma anche il padre che ha avuto un figlio fino ad un anno fino all'età di un anno può chiedere l'esonero per il primo anno del bambino in sostanza oppure per grave malattia o infortunio tutte cose da documentare al proprio collegio di appartenenza quindi grave malattia o infortunio se uno ha avuto una malattia grave o un infortunio che è rimasto bloccato per mesi può chiedere l'esonero poi vedremo in che misura servizio militare volontario servizio civile ovviamente altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore ecco qui questa lettera di ci sta dentro tante altre situazioni ecco perché non è che siano solo queste prime tre ci può essere un impedimento dovuto a cause di forza maggiore adesso non me ne viene in mente neanche uno ma in sostanza ci possono essere altre cause che hanno precluso il fatto di poter fare la formazione e quindi anche qui va tutto documentato del collegio e si può ottenere l'esonero oppure se io oltre ad essere iscritto all'albo di periti agrari come è Sergio Ivaldi per esempio e se lui dimostra di aver svolto la formazione con l'altro ordine oppure se uno è anche architetto oppure se uno ha un'altra iscrizione un altro albo un altro ordine o collegio dimostrando di aver svolto la formazione con l'altro albo allora è esonerato da farla anche come geometra poi ci sono l'esonero per chi ha più di 65 anni ma non è un esonero questo diciamo che chi ha più di 65 anni può ottenere l'esonero a patto che non abbia svolto prestazioni professionali nel triennio di riferimento cioè qui uno non deve aver fatto il geometra non deve aver fatto prestazioni da geometra non deve aver fatto fatture da geometra non deve aver fatto assolutamente niente quindi chi è che c'è qui io per esempio ho avuto il caso di un collega che mi ha interpellato in questi giorni e mi ha detto ascolta Gianni Rossi io ho 72 anni non faccio più geometra da tanto tempo ma ho mantenuto l'iscrizione all'albo perché lui ha anche una pensione sua di altro tipo eccetera perché dice voglio arrivare a maturare i 50 anni di iscrizione perché voglio ricevere il famoso timbro d'oro ecco perché ovviamente e io rispetto molto perché il mio collegio di Padova qualche anno fa ha premiato i geometri che avevano 50 anni di iscrizione all'albo è stata una cosa molto bella e ho visto questi colleghi anziani che erano al settimo cielo per ricevere questa onorificenza del timbro d'oro per cui ecco la ritengo una cosa molto ben fatta ma voglio dire solo in questi casi qui c'è solo a patto che uno non abbia svolto prestazioni da geometra quindi non è che se uno ha 72 anni e perché e continua a fare il geometra perché gli piace perché non vuole andare in pensione per 3000 motivi se fa prestazioni professionali allora deve fare anche lui la formazione non è esonerato per niente avete capito poi ovviamente qui in questi casi qui il numero dei crediti da conseguire viene ridotto in proporzione cioè se ho avuto l'anno di maternità o di paternità non è che non devo fare più neanche un credito dei 60 mi viene scalato un anno che è un terzo lo devo fare 40 ecco quindi vengono ridotti in questo modo qua bene detto questo direi che adesso io qua vi parlo della formazione online perché negli ultimi anni la formazione è cambiata naturalmente è cambiata molto in questo periodo qui per cui volevo così fare anche un po' una breve così disamina di come è cambiata la formazione online cioè di come è passata la formazione dall'aula a online qui vedete ho messo la foto questo è uno dei seminari che ho tenuto io al collegio di Pado eravamo su un'aula molto grande come vedete messa a disposizione da una banca addirittura e vedete qui quante persone c'erano io lo metto qua in fondo che fa la presentazione questa era la formazione di qualche anno fa e c'è ancora adesso ecco poi Gianni posso interromperti un attimo sì dimmi Gregorio io ho risposto a chat fino ad ora mi sono accorto che non stava registrando forse i messaggi di prima hanno interrotto la registrazione può essere quali i messaggi quelli del webinar tu stai registrando in questo momento sì io sì ok a posto perché io vedevo che non stava registrando non ho capito i messaggi scusa i messaggi li scrivono qua gli utenti gli iscritti ok ok a posto a posto ok allora ma comunque tu registra se puoi in ogni caso allora sì ma era interrotta quindi l'ho ripreso adesso quindi non so se tu hai sempre registrato siamo a posto qui vedo la resta registrazione per cui vedo che ah ok ok a posto bene allora dicevo che poi adesso diciamo così complice questo virus adesso ho messo la slide di un'aula vuota col pulpito qua vuoto del relatore con lo schermo spento questo è quello che è successo ma adesso è successo in maniera impellente con questa situazione dell'epidemia ma appunto sono già cinque anni che i corsi online hanno preso piede per cui molti li fanno online e poi ecco l'evoluzione è che appunto vi ho messo una figura che raffigura il fatto di tenere un corso online per cui da un computer che è quello del relatore via internet si passa al computer dell'iscritto e poi c'è qui il singolo iscritto che se lo guarda davanti al suo computer questa è stata l'evoluzione ma io qui ho visto parlando sempre con tanti geometri che molti pensano che la formazione online sia quasi o senza quasi una formazione di serie B quindi uno dice se è online la farò se proprio non ci sono corsi in aula c'è un po' questa mentalità da parte di tanti ancora e allora io mi sono posto la domanda se questo è ancora vero più che pormela io che insomma la risposta un po' ce l'ho già la pongo a voi è ancora vero questo secondo voi e allora qui ho messo vedete io ho ottenuto un corso a Brescia al collegio di Brescia proprio tra il 18 e il 26 febbraio ve lo apro vedete questo era un corso si intitolava gli algoritmi delle riconfinazioni risolti con fogli di calcolo e qui io dovevo fare due giornate due e mezza giornate 14-18 la prima era il 18 febbraio la seconda il 26 febbraio allora il 18 febbraio era ancora abbastanza tranquillo sono andato lì ho fatto la mia lezione c'erano una quarantina di geometri che partecipavano tutto bene perfetto perché poi in aula c'è anche un bel clima ti vedi in faccia vai a bere il caffè insieme poi ne parleremo poi arriva il lunedì dopo che il mercoledì dovevo tornare e mi chiama il collegio e mi dice guarda che qui in Lombardia è uscita l'ordinanza regionale che sono vietati questi tipi di incontri a più persone eccetera e allora mi dice qui il direttore del collegio dice guarda dice niente lo rinviamo lo faremo in aprile lo faremo in maggio lo faremo quando si può e allora io gli ho detto ascolta anziché farlo a sine die cioè a data da destinarsi perché non lo facciamo online questa seconda lezione perché poi sai questo era anche un corso molto tecnico qui si parlava di algoritmi con con excel per le riconfie quindi era bello tosto come argomento non è che fosse così tanto solo da chiacchierare no e allora chiaro che fai una lezione in febbraio quell'altra la fai in maggio o in giugno si uno deve rifare anche la prima allora perché se no allora l'ho convinto a farlo online il 26 ho fatto la lezione online e alla fine questi geometri bresciani mi hanno ringraziato in maniera massiccia ecco perché mi ha detto guarda che bello io andare a Brescia ci mettevo due ore perché poi sai uno dice fai il corso a Brescia come noi qui no fai il corso a Padova ma quello che viene su dalla bassa Padova ci mette un'ora e mezza solo arrivare a Padova poi deve parcheggiare andare a fare e quindi praticamente anche loro hanno apprezzato il fatto che si possa stare a casa e non avere quei tempi morti però diciamo che io qui ho cercato di dirvi no cioè io qui faccio una premessa qui con Sergio Corrado ne abbiamo parlato ancora no perché è così e noi che facciamo che siamo dalla parte di qua del computer che facciamo i docenti che facciamo i relatori ci poniamo sempre la domanda ma noi siamo all'altezza di fare i docenti i relatori sulle materie sulle quali abbiamo esperienza ecco e Corrado dice sempre no che siamo noi qua i veri esaminati cioè io mi sento io diciamo esaminato da voi che state seguendo questo corso qua più che il contrario no e allora qui ho scritto no che secondo me la sioma qui qual è la logica qual è che rendere valida ed efficace la formazione è il formatore cioè è quello che tiene il corso è il docente è il relatore è lui che dà qualità al corso no non è il fatto che sia in aula o che sia a casa dietro al computer cioè e qui tu potresti avere che vai in aula e hai un formatore scadente che non ti fa capire assolutamente niente e poi invece puoi venire online e avere un formatore bravo che ti fa capire le cose o viceversa naturalmente o viceversa quindi questo per dire che è sbagliato pensare che la qualità della formazione sia data dal luogo in cui si si tiene la formazione è data per il 95% ma vorrei dire quasi 100% è data da chi tiene la formazione adesso non so se Sergio Corrado vogliono esprimere un loro commento su questo Sergio tu che ne abbiamo parlato spesso con te di sta cosa Sergio no beh io giustamente come ti ho sempre detto secondo me ho scoperto se mi senti si ti sento mi senti adesso ti sento prima no mi senti si 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 ti sento bene perché io ti sentivo bene si si ok no dicevo che si si ok no dicevo come abbiamo sempre detto che anch'io l'ho scoperta la formazione a distanza qualche anno fa con i primi corsi che abbiamo fatto che ho fatto con te diciamo e ho scoperto che è uno strumento eccezionale cioè secondo me ha dei grossi vantaggi rispetto alla formazione in aula ha alcuni svantaggi che sono quelli che non ci si incontra con i colleghi perché anche comunque secondo me l'incontro parlare con colleghi è formazione però ha dei vantaggi enormi innanzitutto dicevamo appunto che si riesce a diciamo a fare lezioni più lezioni e quindi si riesce magari alcuni argomenti a non concentrarli troppo in una giornata formativa perché una volta ad esempio Sergio scusa se ti interrompo perché si adesso poi dopo ieri sera non siamo riusciti a vedere se ma ho proprio messo i singoli vantaggi così magari li commentiamo man mano che li vediamo sulla slide ok ah sì 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 allora ok sì sì no perché poi se no adesso tu inticiperesti poi quello che viene fuori sulla slide così andiamo bene allora adesso io qui eh sì no io dicevo quello che era il mio pensiero che penso è riportato no no dillo no completalo pure ma dopo ecco vedrai che sono messi qua completa pure allora dicevo ovviamente ecco il discorso della formazione diciamo online consente secondo me di trattare gli argomenti anche in un modo migliore rispetto alla formazione in aula soprattutto ecco quando quando si faceva come si faceva una volta giornate formative di otto ore cioè che erano secondo me difficilmente seguibili ecco magari si seguiva le prime ore poi diventava duro riuscire a seguire tutta la giornata no e questi sono sono i vantaggi ecco gli svantaggi come dicevo e non incontrarsi più che comunque è sempre piacevole ecco incontrarsi con i colleghi rimangono a mancare i rapporti umani sì esatto e allora guardate in pratica qui adesso Sergio e Corrado hanno un po' anticipato ma li vediamo io qui li ho messi giù però in maniera un po' più dettagliata nel senso che adesso io qua parlo di vantaggi di persone online quella proposta dal mio collegio che poi sono io che la curo come organizzazione che che insomma sono un po' diversi anche da quella dalla formazione online che fanno altri perché per esempio voi sapete che noi appunto come state vedendo adesso proponiamo anche già la diretta e quindi se tu decidi di seguire il corso in diretta puoi anche interagire con i docenti come state facendo voi adesso adesso lo fate con la chat a fine alla fine se abbiamo tempo potrete anche far domande in voce quindi e quindi lì è come se si fosse in aula tranne il fatto che non ci si vede quindi perché invece saprete che poi molti altri enti di formazione fanno i corsi e-learning che non sono in diretta sono già registrati e basta quindi tu ascolti un corso registrato e lì non hai nessuno che ti risponde al volo come state facendo come stiamo facendo noi con voi adesso ecco quindi e questo è un vantaggio perché chi vuole cioè i nostri corsi uno li può seguire in diretta se sa che ha tempo in quell'orario lì in quel giorno lì e se gli fa piacere puoi poter avere l'interazione con i docenti oppure lo seguo in differita ecco quindi abbiamo tutte e due le possibilità in differita chiaramente allora ecco la differita per esempio nei corsi online è che non perdi comunque la lezione cioè se c'è un corso in aula cioè a Brescia lì io sono andato la prima volta e ne mancavano tre di colleghi che avevano avuto impedimenti di varia natura no e quei tre lì la lezione l'hanno persa e basta non l'hanno più potuta recuperare la seconda sì di fatti è stato anche quello poi un altro apprezzamento che mi hanno dato dicevo la lezione adesso l'abbiamo vista in online però ci rimane il video per cui se io fra un anno devo fare una riconfinazione non mi ricordo più niente vado lì me lo riguardo capite il corso in aula tu quello che assimili lì lo assimili ma dopo un po' di tempo che magari ti sei dimenticato tutto allora capisci non hai più sì dimmi Corrado dimmi Corrado Corrado Dani scusa c'è il presidente del collegio di hai letto Sergio sì mi senti sì io ti sento Sergio Sergio c'è il tuo presidente del tuo collegio che ha chiesto se può parlare al telefono alla fine ti senti sì sì io ti sento lo possiamo fare alla fine perché sennò la lezione non riusciamo a finirla sì quindi dirgli che va bene ma lo possiamo fare alla fine ok allora vado avanti quindi la differita quindi il fatto di poterla sia per chi non l'ha vista in diretta ma anche per chi l'ha vista in diretta poterla riascoltare anche a distanza di tempo e ripeto noi il video lo lasciamo vita naturale durante non lo tiriamo via cioè tu il video delle lezioni se l'hai per sempre ecco questo è importante poi registrata quindi qui appunto l'ho appena detto chi lo vede registrato il corso può decidere lui organizzare il suo tempo quando vuole quindi uno decide i giorni gli orari in base ai suoi impegni lavorativi in base alla freschezza mentale che uno si sente di avere perché è inutile che segua il corso a mezzanotte quando sta prendendo sonno e quindi questo è un vantaggio si può accelerare o rallentare il percorso di apprendimento per cui adesso i corsi i nostri durano fino al 31 dicembre uno può dire va bene ne faccio faccio una lezione alla settimana ne faccio tre consecutive oppure le cadenzo una al mese beh così assimilo meglio poi faccio delle prove degli esercizi eccetera ecco e poi uno sceglie anche l'ambiente quindi adesso siamo costretti tutti a casa quindi lo può seguire da casa lo può seguire dell'ufficio lo può seguire io ho visto gente che andava in vacanza al mare sotto l'ombrellone col tablet seguiva il corso per dire ecco perché magari lì è talmente rilassato che può seguire il corso con grande tranquillità poi ce ne sono degli altri il tempo effettivo ovviamente dicevo prima i colleghi di Brescia mi hanno detto sì io andare a Brescia ci metto due ore e mezza ora che arrivo tutto e quelle sono perse capito poi devi parcheggiare devi pranzare fuori sede insomma disagi che invece se sei a casa non hai poi quello che assenava Sergio importante è anche il grado di apprendimento perché appunto io lì a Brescia ho fatto ho fatto due pomeriggi perché il corso era otto ore inizialmente mi hanno detto guarda vieni qua una giornata facciamo il corso una giornata e via io l'ho detto guarda che una giornata è pesantissima perché io gli ultimi corsi che facevo appunto quando giravo per l'Italia li facevo di otto li facevo di otto ore insieme anche ad altri colleghi ma poi mi rendevo conto che al pomeriggio c'era gente che non seguiva più niente perché non reggi otto ore specialmente se i temi sono tecnici se sono molto diciamo così da capire se si parla poi di elaborazioni di cose tecniche otto ore non puoi non puoi fare un corso che dura otto ore perché la statistica dice che dopo le prime due tre ore uno comincia a perdere concentrazione e più vai avanti più perde concentrazione quindi figurarsi noi facciamo corsi anche da 30-40 ore e quindi come fai sul posto fare un corso da 30-40 ore cosa faccio vado a Brescia otto volte e vengono in aula otto volte anche gli iscritti no capito mentre qui noi riusciamo a fare lezioni limitate come oggi da due ore noi in genere ne facciamo anche tre in qualche corso e poi le diluiamo perché le facciamo a cadenza settimanale per cui in sostanza uno vede una lezione poi passa una settimana e quella settimana se vuole se la può anche riguardare può ripassarsela poi guarda la successiva oppure se lo guarda registrato come detto prima sceglie lui i momenti in cui è tranquillo per guardarsi e quindi riesci a fare corsi anche di molte ore in cui l'apprendimento e la didattica sono garantiti se invece fai un corso in aula che dura otto ore e magari fai due giornate cioè farlo da 16 ore io ho fatto anche 16 ore due giornate una dietro l'altra alla fine vedi gente che non ne poteva più che non ne poteva più e aveva assimilato neanche un quarto di quello che si era detto quindi cosa succede che quando fai i corsi in aula da molte ore appunto devi tenere sessioni molto lunghe anche l'intera giornata e poi devi condensare molto i contenuti perché devi star dentro quella giornata lì io per esempio ecco il corso di Brescia è già il terzo che faccio in questa modalità qui di due pomeriggi mi hanno cioè dopo loro danno in questione del gradimento fortunatamente il gradimento era buono però la nota che mi dicevano era ma ci volevano più ore perché sono stati condensati troppo gli argomenti eh certo sono stati condensati dovevo farli in otto ore per forza che devo condensarli capite qui invece in online riusciamo a fare anche corsi a 30-40 magari durano tre mesi il corso no perché fai due ore la settimana vai avanti anche tre mesi però hai lezioni diluite ecco questo è il concetto gli svantaggi l'abbiamo detto finora l'ho detto Sergio Corrado manca il rapporto umano lì quando ti trovi in aula scambi opinioni ti guardi in faccia vai a prendere il caffè insieme chiaccheri finché prendi il caffè parli anche di altri temi divaghi su altri argomenti quello manca eh quello manca questo è uno svantaggio effettivo io lo sento molto di fatti cerco comunque di fare corsi in aula io ho proposto i miei corsi ai vari collegi d'Italia poi mi ha risposto in tre soltanto pazienza però io voglio dire il corso lì sulle tecniche di confinazione sono disposto a farlo in aula sono disposto ad andare anche ad Agrivisento un'altra volta perché il rapporto umano la conoscenza diretta è fondamentale però capite che qui su dieci vantaggi c'è solo questo svantaggio qui e purtroppo la bilancia è chiaro che pende da una parte insomma non so Gianni sì sì dimmi Sergio Gianni sì Sergio vai mi senti Gianni eh non mi sente molti che si sente intromittenza ah si sente male ora eh forse c'è un sovraccarico di linee allora facciamo così facciamo una pausa di dieci minuti intromittenza sa allora facciamo una pausa ci troviamo qui gente collegata e quindici ok ok allora ho riavviato la registrazione vi chiedo scusa per l'impasso qua che non si sentiva purtroppo oggi siete in tantissimi e quindi questo era un po' da prevedere tenete conto che non è così poi nei corsi è perché qui oggi abbiamo ampiamente sforato il numero massimo di connessioni e quindi e poi c'è anche il problema che tutti usano internet perché sono a casa normalmente i corsi chiaramente essendo pochi partecipanti non abbiamo mai questi problemi qua ecco questo volevo dire perché stiamo parlando dei vantaggi della formazione online e poi uno dice ah beh se però dopo non si sente allora in realtà ecco tutti quelli di voi che hanno fatto i nostri corsi hanno visto che problemi eh sostanziali non ce ne sono mai stati e vi richiedo un'altra volta se mi sentite lo chiedo anche a Sergio Corrado e Gregorio che così eh riprendiamo sì sì io ti sento benissimo perfetto benissimo confermo anch'io ok allora qui visto che abbiamo parlato di formazione online volevo farvi vedere adesso il sito corsigiometri.it che è appunto il sito del mio collegio i corsi online del mio collegio e qui vedete trovate la bellezza ecco se li scorrete tutti se li contate sono oltre 50 corsi online sempre con i crediti formativi alcuni invece sono gratuiti senza crediti perché sono dei seminari già fatti qui naturalmente se volete andare a selezionarli qui c'è questo menu a tendina che è normalmente scritto tutti li trovate tutti mescolati se volete vedere quelli di una materia tipo topografia catastrofi confinazioni prestazione cad beam render protezione immobiliare successioni efficienza energetica ed acustica sicurezza cartieri produttività individuale poi selezionate la materia in questo caso topografia catastrofi confinazioni vengono filtrati solo quelli vedete in verde con la barretta verde e qui trovate tutti i nostri corsi questo è quello di martedì scorso questo è il famoso corso in cui parleremo dopo che faremo qui a fine aprile in cui parleremo nuova versione di pregeo questo è un corso completo base avanzato di pregeo che faremo in autunno questo è il corso docf che abbiamo appena terminato e via via insomma qui poi ci sono i corsi quelli ancora a base sulle riconfinazioni sulle topografie per catastrofi riconfinazioni casi insomma qui avete solo l'imbarasso della scelta vedete che tutti questi corsi danno crediti alcuni danno anche 30 30 questi qui sono corsi che un pomeriggio davano solo 4 però vedete c'è il corso di geodesia cartografia per geometri tenuto del professore di Maserola di Surace che ne dà ben 96 di crediti quindi ampiamente sopra i 60 quindi qui ne trovate veramente tanti qui trovate in realtà il prezzo di ciascuno ma ecco adesso qui in occasione del lancio di questo di questo sito che si chiama ripeto corsi topgeometry.it qui vedete c'è il bottone corsi e qui abbiamo previsto un abbonamento flat per cui vedete uno che si abbona all'abbonamento abbiamo chiamato learn diciamo che costerebbe 160 euro adesso lo facciamo in offerta fino al 30 aprile addirittura a 145 anziché 300 con 145 euro potete vedete qui viene scritto cliccando qui passi al sito corsi geometry dove trovi tutti i nostri corsi con cfp e se sei il nostro abbonato learn puoi iscriverti liberamente a tutti quelli di tuo interesse cioè con 145 euro abbonandovi a topgeometry con questo abbonamento qui voi potete frequentare tutti i corsi che volete tra questi quindi per un anno potete iscrivervi a qualsiasi di questi corsi senza pagare il singolo corso con questa spesa unica di 145 euro all'anno quindi qui se vi interessa appunto andate qua sul sito topgeometry andate qui su prezzi e qui potete acquistare questo abbonamento qua poi magari parleremo anche degli altri ma insomma questo era quello che riguardava un po' la questione la questione corsi chiedo sempre se mi sentite così mi tolgo il dubbio per cui e andiamo avanti ecco quindi sì sì perfetto quindi spero che abbiate capito un po' ecco l'offerta che abbiamo messo in questione come collegio essendo l'ultimo anno sappiamo poi che molti sono un po' indietro con i crediti e quindi c'è chi deve fare ancora tutti 60 però vi ho detto ecco il regolamento prevede che uno possa farli anche tutti l'ultimo anno e tutti anche l'ultimo mese per capirci quindi qui avrete un'ampia scelta ecco se volete vedere poi le altre tematiche vedete ci sono tutti quelli sulla progettazione sul beam ce n'è uno bello sull'autocad ce ne sono vari su sketchup ce n'è uno con rilievo 3d con visto laser modello su sketchup poi ci sono quelli sulle valutazioni immobiliari sulle successioni che anche questi sono stati corsi molto apprezzati ce ne sono poi sull'efficienza energetica ed acustica e poi sicurezza cantiere ovviamente qui abbiamo due corsi da 21 ore che permettono di conseguire le 40 ore per ottenere ragionamento quinquennale per avere il ruolo di coordinatore sulla sicurezza e poi ce ne sono anche di produttività individuale qui abbiamo messo un corso su word un corso su powerpoint su excel su outlook eccetera corsi di quel tipo lì quindi se vi è chiaro Gianni ci sono alcune domande c'è un iscritto che dice se l'iscrizione e learning dura di top geometry si può fare anche per un solo anno c'è un vincolo di durata di iscrizione no no l'abbonamento dura un anno poi dopo tu se vuoi lo rinnovi se no fai a meno ecco è un problema e un altro che ma gli hai già quasi risposto che dice ma l'offerta dura un anno si rinnova automaticamente allora no l'offerta l'offerta base è 160 euro e quindi diciamo cioè fino al 30 aprile c'è un 10% in più e quindi è 145 euro se no dal primo maggio torna a 160 ma rimane così rimane così sempre insomma ecco perché qui poi vedremo questi abbonamenti hanno anche varie cose hanno i software eccetera diciamo riferendoci solo a quello dei corsi rimarrà a 160 adesso che già vedete metà rispetto al prezzo di 300 euro ma in più diciamo chi lo volesse fare entro il 30 aprile risparmia un altro 10% e se guardate qui diciamo che 145 se andiamo a vederli di nuovo tutti quanti vedete che è un po' il prezzo di poco superiore a un corso singolo ecco chi ha fatto il corso docfa per esempio ha speso 125 euro solo per il corso docfa qui con 145 puoi fare tutti questi corsi qua quelli che vuoi naturalmente l'abbonamento se lo fai adesso non so fai in aprile dura fino ad aprile dell'anno prossimo quindi tutti i corsi che noi proporremo da adesso fino ad aprile del 2021 ognuno uno potrà iscriversi gratuitamente c'è un altro iscritto che chiede se tutti i corsi learning sono validi e fini i crediti allora si vedi tutti i corsi nostri dove vedi iscritto 30 CFP 30 CFP questo qui è un seminario di un'ora dove vedi iscritto il nostro CFP ma quelli sono gratis che sono seminari quindi non danno CFP sono gratuiti ma dove trovi iscritto 30 CFP o 28 CFP o 28 CFP quelli sono tutti corsi approvati al Consiglio Nazionale Geometri che danno crediti quest'anno che danno crediti quest'anno ecco questi però attenzione scadono il 31 dicembre poi noi a gennaio ne faremo degli altri per cui ripeto se tu ti iscrivi se tu ti abboni adesso da qui a dicembre fai tutti questi dal primo gennaio al 31 di marzo spune che ti abbonassi oggi e poi fare anche quelli che troverai nel 2021 e Gianni scusa prima di andare avanti c'è un utente che dice che voleva comporre il numero per diciamo per collegarsi no e dice appunto gli dice che il numero è più 1 tra parentesi 213 poi dal numero no 9 2 dice ma non so cosa comporre deve comporre il numero devi comporre 0 0 1 cioè più 1 vuol dire 0 0 1 Gregole tu sai meglio rispondere a questa domanda Gregorio non ho seguito perché stavo rispondendo un iscritto che gli viene fuori e comporre il numero più 1 eccetera quel più 1 cos'è 0 0 1 che è un più 1 poi c'è una parentesi 213 e poi un numero 9 2 9 un trattino e dice non so cosa comporre eh deve fare secondo me deve fare 0 0 1 e poi 2 2 13 9 2 eccetera perché non è un numero degli Stati Uniti è un numero fittissimo questo qui non è che sia che stai chiamando aspetta Gregorio a meno che non ho provato Gianni perché magari è rimasto va bene dai adesso faccio una prova faccio una prova purtroppo è un po' così oggi quindi dobbiamo accettare questo ok allora non so se c'erano altre domande qui sull'abbonamento sui corsi no adesso andiamo avanti un po' sul corso sì dai perché se no ok quindi ecco comunque dopo di che se avete dubbi domande li potete scrivere sul forum per cui qui vedete sui corsi c'è anche qui un forum quindi oppure potete scrivere un'email vedete qui trovate la mia mail e anche il mio numero di cellulare per cui se volete prendervi nota di queste della mail del cellulare potete contattarmi come e quando volete ok e domani alla fine lo rifaccio vedere adesso passiamo al discorso dei pf misurate sulla cartografia catastrale allora adesso qui poi magari se c'è tempo torno anche sulla teoria su dire cos'è il gis su dire cos'è il web map service sulle sigle sulla licenza però direi che visto che sono già le 16 a 30 di concentrarci un po' sulla cosa questa qui è ancora sulla cosa più interessante che è appunto il discorso delle mappe qui su top geometry c'è il visualizzatore delle mappe catastrali quindi questo c'era sull'ex sito riconfinazioni.it adesso è qui lì c'era soltanto le mappe invece adesso qui vedete che se io clicco su questa immagine qua arrivo vedete su questa schermata dove c'è l'italia intera e qui naturalmente cosa potete fare potete dire la provincia sono provincia di vicenza potete andare a selezionare il comune se scrivo l'iniziale mi seleziono abbassando il grappa e vedete comincia a venire giù la mappa comincia a venire giù i punti fiduciali poi posso andarli a selezionare un foglio per cui adesso qui io voglio andare sulla zona dell'ufficio che è questa e vedete qui viene giù la mappa catastale qui adesso voglio proprio andare nell'ufficio che è la particella 886 io ho l'ufficio qui a due passi da casa e io sono dentro questo quindi qui potete cercare per provincia comune foglio e particella e qui naturalmente potete chiaramente consultare la cartografia catastale e qui però vedete che ci sono sopra anche i punti fiduciali per cui se io faccio un doppio clic sul punto fiduciale si apre la finestra e la finestra dà tutti i dati del punto fiduciale quindi la monografia l'attendibilità planimetrica la data aggiornamento la quota altimetrica l'attendibilità della quota le coordinate geografiche WGS84 longitudine latitudine le UTM anche le Gauss Boaga se c'è la monografia vedete qui c'è il link per scaricarla per cui lui scarica la monografia che poi la scarica qui su PDF e vado a vedermi la monografia in questo caso qui il PDF è questo spigolo di questo muro qui oppure c'è vedete anche la possibilità di aprire street view per andare a vedere quella ecco vedete questo è il muro e lo spigolo era questo spigolo qua dove c'è il fiduciale quindi qui vedete tutte le informazioni dei punti fiduciali e oltre a questo poi potete andare a selezionare cioè a vedere le misurate quindi qui c'è questo bottoncino che dice modalità misurate quando clicco questo bottoncino qua vedete io posso andare a cliccare in sequenza i punti fiduciali per cui seleziono i primi due poi dico voglio andare anche su questo qua poi voglio chiudere su questo qua e lui mi fa vedere con le congiugenti mi fa vedere quante vedete il numerino lì 16 10 17 sono quante misurate sono state eseguite su quella coppia di punti fiduciali ok e naturalmente qui cosa si può fare vedete quando vado sopra una misurata mi diventa gialla se faccio clic vedo la tabella dei protocolli che hanno interessato questa linea qua per cui qui posso andare a cominciare a cliccarne uno vedete questo qui ha preso questo triangolo qua anche lui e vedo poi le misurate che ha preso lui e via via li vedo tutti questo qui ha esattamente preso gli stessi pf andiamo avanti questo qui invece è andato giù in fondo a questo pf qua e avanti insomma quindi qui vedete i vari questo qui ha preso solo questa solo proprio questa misurata qui così vediamo un po' vediamo qui se vedo le altre vabbè insomma qui avete capito adesso probabilmente che qua eccolo qua questo invece è andato su questi pf qua in cima e qui vedete poi anche le misurate anche delle altre copie che ha preso lui e naturalmente poi qui invece della della misurata che sono partito che era questa vedo tutte le distanze perché adesso faremo qui vedete la media qua in cima poi adesso purtroppo la cosa l'abbiamo appena così partorita c'era il discorso no Sergio delle tolleranze di dire cioè di imporre diciamo volevamo poi sì sarà da aggiungere alcuni strumenti che possono essere utili quindi eventualmente appunto il calcolo delle tolleranze che erano sarebbero anche utili i cerchi comunque se uno deve instaurare un nuovo BF avere la possibilità di capire che distanza è con il BF più vicino quindi mettere magari in punto dei cerchi di misurazione che ti possono aiutare nel momento che devi instaurare un nuovo BF ecco ci sono degli sviluppi che si possono fare che sarebbero utili per noi geometri ecco qui c'era una domanda di Vittorio è un servizio a pagamento no questo è tutto gratuito se voi andate sul sito top geometry e beh dovete registrarvi ovviamente quindi qui c'è accedi adesso io sono già inserito c'è accedi dovete registrarvi e poi una volta registrati cliccate qui il servizio è completamente gratuito proprio perché poi vedremo se ci sarà tempo la licenza dell'agenzia delle entrate prevede che si può utilizzare la cartografia ma senza scopi di lucro per cui su questa parte qui non c'è da abbonarsi non c'è da pagare assolutamente niente altre cose interessanti di questa parte qui è poi la possibilità di cambiare sfondo perché se io clicco qua lui mi dice mi ricorda il discorso della licenza se voi accettate potete per esempio ci sono degli sfondi predefiniti quindi tipo Google Earth per esempio qui vedo la mappa su Google Earth qui col cursorino vedete posso andare in trasparenza quindi vedere la mappa catastrale in trasparenza su Google Earth quindi posso avere minima massima trasparenza se vado giù in fondo addirittura vedo proprio l'ombreggiatura vedo proprio la sovrapposizione quindi qui potete vedere appunto lo sfondo su Google Earth ma potete vedere anche per dire lo sfondo IGM oppure cosa più interessante perché all'inizio invece lui lo sfondo è quello di OpenStreetMap che avrete sicuramente visto cosa più interessante è questo servizio WMS personalizzato cosa vuol dire vuol dire che se voi sapete i dati sono questi guardate l'URL di una cartografia di un GIS messo a disposizione da un ente pubblico che può essere un piano urbanistico di una provincia di una città di un comune eccetera sapete il layer sapete i codice del sistema di riferimento potete andare a metterlo e vedere una vostra cartografia noi in realtà cosa abbiamo fatto su questa pagina ne abbiamo messe già diverse adesso qui c'è un po' di rallentamento perché ovviamente c'è tanta roba oggi per cui vediamo se sì era un po' la domanda che facevano alcuni Gianni che ti avevo fatto anch'io cosa si intendeva sai per l'abbonamento a mappe eh sì quello poi ci torno perché così ecco questa qui è la pagina qui continua a squillare il telefono è la pagina in cui noi abbiamo messo già una serie di cartografie quella IGM 25000 quella di Agostini le ortofoto delle varie epoche 2012 andando indietro 2006 2000 via via e le CTR regionali per il momento abbiamo inserito Veneto e Lombardia ma noi andremo man mano a compilare sempre più questa pagina per cui per esempio se io volessi vedere la CTR del Veneto dove siamo sul CTR Veneto quella a colori vedete clicco compila form ed ecco questi sono i dati da compilare l'URL della servizio il layer questo è quello a colori e il sistema riferimento chiaramente qui me li ha già compilati lui e quindi qui vedete che posso andare a mettere la mappa catastrale in sovrapposizione con la CTR del Veneto ecco questo è sono queste possibilità questa roba qui per il momento è tutta gratuita anche queste perché questa pagina qui che vi facevo vedere noi lì continueremo aggiungere CTR regionali tutte quelle cartografie che sono pubbliche naturalmente non essere pubbliche non che siano protette da da copirai o altro ma ce ne sono tantissime di pubbliche le CTR sono tutte pubbliche eccetera noi andremo man mano inserirle in quella pagina per cui troverete anche le CTR delle vostre regioni man mano ecco anzi tu Sergio e Corrado se potete informarvi su quella del Piemonte e su quella della Emilia Romagna sarebbero già altre due che andremo sicuramente si può perché ti dico appunto che ho visto il geoportale della regione Piemonte dalla disponibilità delle cartografie quindi sicuramente si può adesso vedrò di ottenere i dati che servono c'è una domanda Gianni di Giovanni se dai un'occhiata se riesci a rispondergli allora Giovanni dice anche Lazio se potete questa dici no le coordinate UTM o Gauss Boaga e Giovanni Salvatore ha due nomi allora Giovanni eh c'ho adesso qua io è andato giù allora forse questo qua eh può essere perché scrivono in tanti te la leggo io si leggo le coordinate UTM o Gauss Boaga sono originate da rilievi o semplicemente da conversione della Cassini Solder del Catastro in quanto i criteri di aggiornamento delle coordinate in TAF purtroppo sono discutibili Catastro non discrimina tra rilievi con vertici con attendibilità 1 da quelli con attendibilità 8 e cioè da 1 a 8 a quelli con solo PF ma non c'entra niente la TAF lì sono coordinate che sono state calcolate nel sistema di riferimento UGS 84 per le geografiche e UTM per l'UTM sono coordinate effettivamente determinate su questo mio riferimento non ha nessuna cioè il punto è il punto fiduciale ma non è che si sono trasformate le TAF che sono una cosa come sappiamo molto ma molto approssimativa sono coordinate effettive ecco per cui poi magari su questo potremmo fare un altro webinar perché ripeto se andiamo così in dettaglio sul tecnico diventa diventa un po' difficile quindi qui avete capito questa possibilità di andare inserire o di andare ripeto qui su adesso dove andiamo qui andare qui e andare su questa pagina e andare a cambiare qui a scegliere una di quelle che noi abbiamo già messo oppure se no se riuscite ad avere i dati inserire direttamente voi lo sfondo che volete ecco questa è un po' la logica per tornare agli abbonamenti dicevo ecco visto che dicevi Sergio che qualcuno aveva chiesto abbonamenti qui c'è questo abbonamento map che comprende core map e adesso poi ne parliamo per chi non lo conosce che è un software peggio referenziale mappe e comprende queste cartografie aggiuntive che però per il momento è gratuito quindi qui se anche uno non si abbonano le ha queste cartografie poi a un certo punto quando avremo messe tutte le citiere d'italia e tante altre cartografie questo qui andrà dentro solo con l'abbonamento mappe per il momento è gratis ok poi dopo qui visto che ci siamo l'altro abbonamento è core map vi faccio vedere io qui ho due software che ho sviluppato io che sviluppo io vi trovate qua c'è un software core map appunto e qui se vedete la descrizione serve per giro referenziale mappe per mandarle su google earth soprattutto serve per reperire i punti di mappa poi per le riconfinazioni per cui vedete poi permette anche di inserire i frazionamenti sulla mappa di impianti i funzionamenti quelli presenti al pregeo insomma ha una serie di funzionalità è un programma che esiste da molti anni molto consolidato per cui se vi fa piacere andate qui trovate tutto volete scaricarlo anche in versione dimostrativa quindi vedete qui c'è la possibilità di scaricarlo in versione dimostrativa e poi ci sono e poi ci sono ben invece cinque lezioni per cui se cliccate qui andate su un sul mio canale youtube dove ho messo cinque lezioni che spiegano come usare sia core map che geocat che è quell'altro per cui adesso torno qui vedete geocat poi molti magari lo conoscono già perché lo uso anche nei corsi questo è un programma di topografia generale che poi calcola i rilievi eccetera ecco e poi soprattutto ha una parte relativa alla riconfinazione quindi vedete qui importa i rilievi dagli strumenti ha un applicativo poi per la gestione grafica dei rilievi sul CAD anche lui esporta i rilievi su Google Earth insomma di funzionalità ne ha veramente tante fino ad arrivare alle riconfinazioni che è un po' poi la materia su cui io mi sono maggiormente dedicato ecco per cui ecco questi due software qui diciamo sono compresi in quegli abbonamenti per cui questo comprende CoreMap questo comprende sia CoreMap sia sia le cartografie famose sia Geocat e vedete che questo qui verrebbe 100 euro 90 entro 30 aprile questo verrebbe 160 145 euro dico già per prevenire quelli che l'hanno comprato in precedenza e costava di più che il prezzo che loro hanno pagato la parte eccedente a questa cifra li verrà prolungato l'abbonamento ecco questo perché sennò poi sono già sicuro che mi arriveranno una tempesta di telefonare ma io l'ho comprato prima costava molto di più ecco questo è il discorso e poi visto che siamo qui finiamo se uno vuole con 245 euro ha tutto quindi i corsi Flat Geocat CoreMap cartografie ecco questo è un po' la proposta adesso sono meno 20 alle adesso io guardate qui la parte guardate perché questa è la parte delle definizioni GIS alcuni chiedevano ovviamente come fare a caricare le mappe quindi devono poi ovviamente conoscere questa parte qui ecco per capire come fare utilizzare ma come dici scusa Sergio no dicevo c'erano alcune domande che appunto chiedevano proprio come fare a caricare le mappe no e dico bisognerebbe conoscere giustamente quello che dovevi spiegare GIS diciamo la codificazione che da che deve avere la mappa ecco quindi diciamo che erano un attimo quelle situazioni da spiegare no beh diciamo che lì Sergio avevo messo più che altro la questione delle sigle cosa significa GIS cosa significa WMS l'Inspire che sono tutti gli enti che hanno poi fatto sì che in Italia che l'agenzia delle entrate avesse messo a disposizione la mappa Catastry perché tutto deriva da una direttiva europea poi avevo messo la parte di licenza ma voglio dire questa se volete possiamo anche perdere due minuti però ecco poi qui se andate qui le trovate qui questa è la licenza che diciamo sovrintende l'agenzia dell'entrata cioè che ha adottato le sigle entrate per cui vi vedete per dire è una licenza che permette che uno possa copiare distribuire mostrare l'opera indicando l'autore della stessa ecco sapete che buy in inglese vuol dire questa cosa è buy Sergio di valdi vuol dire che l'ha fatta lui ecco nc vuol dire non commerciale che impedisce scopi di lucro quindi anche voi quel messaggetto che veniva fuori prima nel sito che cliccate accetto accettate il fatto che poi non potete fare un scopo di lucro cioè non è che puoi dire adesso io la mappa qui gliela do un altro gliela faccio pagare per dire 10 euro no perché lì violate la licenza capito dopo su tutte cose che lasciano tempo che trovo ma insomma e non permette che altri copino o distribuiscono l'opera se non identica quindi cioè tu non puoi per esempio prendere la mappa dell'agenzia e andare a modificarla devi lasciarla stare com'è identica esattamente identica invece qui appunto dicevo spiegiamo un po' queste cose qua quindi ma qui per quanto riguarda il caricamento della mappa voi basta che andiate su top geometry sulla pagina principale vi registrate e cliccate e cliccate qui punto basta ecco quindi dopodiché andate qua mettete la provincia mettete il comune oppure se volete sì no ma loro parlavano dello sfondo diciamo che molti erano interessati alla questione di poter caricare diciamo mappe sotto come sfondo sotto questa e qui diciamo per sapere i parametri dici allora sì sì appunto ecco molti avevano questa curiosità questa esigenza o curiosità sì sì per sapere i parametri io poi vi metterò sul sito sul forum una piccola guida in cui vi darò qualche dritta per andare a cercare l'url della cartografia capire qual è il layer e capire qual è il sistema di riferimento ma normalmente questi dati li trovate nel sito dell'ente che pubblica della cartografia la cartografia state di capire come andare a cercare ecco allora metto giù sì metto giù un articolo perché poi qui vedete su top geometry ci sono anche degli articoli che scrivo io ma se volete mandarmi mandarmi voi dei vostri articoli pubblico volentieri anche Sergio Corrado se vogliono contribuire sono benvenuti tutti e qui trovate quindi farò un articolo in cui spiegherò diciamo come qui ne trovate alcuni perché top geometry è un articolo che spiega perché abbiamo così voluto fare questo sito e poi sono degli articoli tecnici rilievi a schema libero come ottimizzare il lavoro in campagna questo lavoro che sto seguendo io per una confinazione in cui c'è il confinante che rivendica lo giucapione leggetelo perché è una cosa sconvolgente perché qua avete lo intitolato l'incredibile normativa sul giucapione trasforma a volte questo istituto in un esproprio legalizzato per cui se leggete questo caso qui vi verrà da dire anche voi ma qui non è più lo giucapione come doveva essere è che uno vuole impossessarsi il terreno di quell'altro e sfrutta la normativa ecco e poi ci sono anche articoli tecnici qui vedete io ho messo l'autorazione mappa rilievo però ecco qui adesso andiamoci da qua vedete qui su risorse qui avete varie cose le tue articole adesso andiamo appunto sugli articoli e beh c'erano in home page per cui potevo farlo anche direttamente da qui vedete c'è poi anche qualche articolo tecnico rotazione mappa rilev minimi quadrati in cui vedete spiego questa tecnica e qui vedete metto giù anche delle animazioni per cui quello che spiego viene addirittura poi fuori con l'animazione che allora si vede un po' la somma che viene svolta eccetera scrivo e vi lascerò il tempo e modo di andare così a visitarlo c'è il forum poi naturalmente quindi il forum è essenziale qui troverete varie varie sezioni e topografia ecco offro cerco lavoro qui ho già messo per esempio un un post perché mi ha chiamato un geometra che lavora all'estero che fa infrastrutture che fa parecchi lavori che cerca un geometra tra i 25 e i 35 anni un topografo che possa fare i tracciamenti dei cantieri eccetera ma adesso al di là di questo voglio dire che è sicuramente interessante poi c'è topografia altre materie c'è un bellissimo forum su geometri leggendari poi ne parleremo vedete poi c'è il forum sul visualizzatore per cui qui se avete qui c'è già stato qualcuno che ha già segnalato delle anomalie oppure ha segnalato delle migliorie quindi qui vedete scrivete qui non è difficile sul forum sembra un po' complicato ma in realtà è molto semplice perché basta entrare su una sezione e qui viene fuori la possibilità di creare un nuovo argomento o di rispondere agli argomenti già presenti insomma ecco quindi il forum è un po' un modo per colloquiare tra noi se volete vedere diciamo gli argomenti più recenti cliccate sui recenti vedete quelli che sono stati inseriti più recentemente qui ce n'è uno di oggi di di Moreno che chiederebbe di fare un corso di topografia visto che siamo tutti a casa gli ha risposto Natale insomma ecco questo è il forum poi sul ecco poi dopo siccome mancano dieci minuti non vorrei c'erano ancora solo due domande c'è due cose Gianni se volevi proprio dirle c'è due cose che mi tenevo utile uno Germano diceva esplicitate che la sovrapposizione delle mappe non ha fondamento per la verifica dei confini beh direi che ecco magari per i meno esperti ovviamente è da dire ecco sì naturalmente qui le mappe qui hanno solamente carattere di consultazione perché tu devi andare a fare un lavoro devi capire quali punti fiduciali appoggiarti puoi capire già le misurate ha solo quello scopo lì ecco non ha assolutamente sì no no è importante e poi c'era un altro Marco che diceva è possibile ottenere delle coordinate dalla mappa dei punti che ci interessano e eh beh mi chiedeva questo spero che non non volesse le coordinate per fare delle riconfinazioni ecco che non vanno mai fatte usando quella mappa lì ecco sì adesso qui guarda se clicco adesso non so se sia sempre il problema del sovraccarico ma qui dà dà le coordinate vediamo se eravamo qua cioè qua viene fuori una mascherina con le coordinate in quel punto lì sì con la possibilità di avere su street view probabilmente anche qui c'è il problema poi dell'intasamento che sei troppo intasato e poi c'era un altro utente che chiedeva ma te l'avevo già chiesto anche ieri io la stessa domanda se poi sarà possibile mettere le mappe di impianto con eventualmente col tuo programma portarle poi all'interno del visualizzatore questa è una cosa che appunto con te Sergio ne abbiamo parlato più volte l'ultima ieri e sì come dicevo a Sergio ieri è un po' il lavoro che stiamo facendo da qui in avanti nel senso che se qui apro una mappa adesso vediamo se ne ho una quella del corso il martedì scorso vedete questa mappa qui chiaramente viene georeferenziata con cliccando i crocichi dei parametri ridandogli le coordinate mappa dei crocichi e quindi adesso qui adesso le coordinate saranno scritte probabilmente in cima qua Sergio dove sono scritte qua scritte qua in cima probabilmente vedete queste sono le coordinate dei parametri per cui tramite queste coordinate ecco questo è il software da usare questo o un altro per le riconfinazioni per andare a reperire i punti del confine che mi interessa i punti di inquadramento ecco perché qui viene usata la mappa di impianto viene rettificata la deformazione eccetera poi questa qui vedete la mappa viene portata su google earth per cui diciamo qui viene mandata su google earth e quello che stiamo facendo adesso adesso qui vediamo la su google earth è che la manderemo invece proprio sopra la cartografia catastale è un lavoro che stiamo facendo non è semplice è abbastanza impegnativo per cui adesso chiaramente ci siamo concentrati sì poi Gianni c'era un altro utente Maurizio che diceva perché non è possibile scaricare le monografie direttamente cliccando sul nome io adesso non ho provato ma dice ma bisogna passare dal cioè ci sono altri che lo riescono a fare quindi non so se poi lui direbbe diciamo sì che tu direttamente clicchi da lì e lui ti apre la monografia senza dover indirizzarti all'agenzia no scusa perché io clicco qui sì senza passare dalla finestra probabilmente probabilmente sì ecco diciamo che è un passaggio in più ma adesso potrebbe essere anche questa un'implementazione utile adesso noi abbiamo avuto un po' la sensazione diciamo di far venire fuori su una maschera diciamo tutti i dati del punto fiduciale quindi anche il link per la monografia in modo che tu hai su una finestra tutti i dati però ecco può essere un suggerimento ecco ripeto se avete questi suggerimenti qua andate sul forum del sito top geometry no andate qua sul forum andate su questa sezione qui riservatore cartografia catastale e qui vedete ecco perché non crei un argomento create un argomento gli dite suggerimento questo è poi scrivete qua molto semplice e quindi noi dopo il forum lo controlliamo sempre scrivete le liste ecco non mandate email scrivete le liste suggerimenti per cui poi ecco già che sei ancora lì una domanda c'era Marco che diceva ogni quanto vengono aggiornate poi le ipf le misurate penso che utilizzi la data che l'agenzia le fornisce sì diciamo che abbiamo schedulato di farlo ogni mese per aggiornamento e quindi noi ogni mese andremo a discaricarci i TAF e andremo ad aggiornare i punti fiduciali inserendo quelli nuovi poi come ti ricordi sopprimendo quelli che non ci sono più soppressi ma non sopprimendoli ma indicandoli con un altro simboletto per capire che sono soppressi ecco quindi lo faremo ogni mese in sostanza questo aggiornamento qua c'erano altre domande o vado avanti no no direi sì domande ce n'è tante ecco però più o meno abbiamo risposto a tutti alcuni ecco si lamentavano che non riuscivano a trovare top geometry o dicevano che li mandava direttamente al forum ma probabilmente sbagliavano perché il sito è nuovo quindi su google non è ancora indecisato ma se voi scrivete www.topgeometry.it credi che ci arrivi immediatamente non mi sembra poi comunque tenetevi in mente si chiama top dopo lo trovate sulle slide si chiama top geometry quindi non è che sia molto da sì Gianni magari spiega come registrarsi come registrarsi sì bisogna andare qui adesso qui faccio log out mi sconnetto e quindi viene fuori accedi ecco voi viene fuori accedi quando cliccate accedi vi manda su una ecco no ma adesso io qui ecco lui si ricorda che sono un penalogato non me lo fa fare ecco per cui comunque digli che ti manda tecnobit.shop devi fare lì la registrazione sì sì ma poi si accorgono ecco non lo vedo un gran problema sì noi poi la registrazione la facciamo ecco per tirarmi via come devo fare devo forse cancellare la cache cosa devo fare qua perché lui si ricorda ma fai clic su Gianni ed esci su top su tecnobit.shop devi uscire vediamo ancora una domanda Gianni importante perché era una cosa che avevamo già parlato chiedevano poi se è possibile fare le stampe in scala eventualmente della mappa di quella è una domanda che fanno in tanti questa è una bella domanda e questa ci stiamo interessando io qui lo sviluppatore che segue questo lavoro delle mappe è uno molto esperto lavora sempre lavorato nel mondo GIS eccetera conosce bene anche tutte le licenze lavora per il CNR del Veneto e lì è un problema perché un problema è da sviscerare perché la stampa potrebbe essere già considerata un'opera derivata siccome la licenza dell'agenzia come adesso l'ho molto così diciamo svertita ma vedete qui dice non opere derivate no cioè tu puoi far vedere la cartografia ma non puoi fare opere derivate la stampa potrebbe essere già considerata un'opera derivata per cui siccome noi non vogliamo violarla la licenza dobbiamo un po' indagare se si può fare ecco c'è una richiesta che era già emersa parecchie volte per cui però ecco c'è un po' questo problema qui per cui insomma bisogna un po' capire adesso qui vediamo allora se faccio log out viene fuori accedi se fate accedi ecco arrivate qui che è adesso Tecnobit la società ma insomma qui vedete che vi registrate o avete già l'email e la password e quindi accedete se no fate la registrazione registrati pur lo fate con facebook o con google se siete già registrati con facebook o con google e poi dopo niente poi qui accedete non preoccupate che trovate scritto Tecnobit perché qui non c'è a pagare assolutamente niente quindi qui per le mappe è tutto gratuito così come è gratuito poi il fatto di andare a vedersi qua diciamo le varie risorse quindi i video una serie di video che ho messo io sono tutte cose gratuite le news sono quelle che dicono dei prossimi corsi eccetera poi ci sono gli eventi e qui gli eventi trovati tutti gli eventi compresi quelli futuri in corso e futuri quelli del 2020 già tenuti quelli in corso e futuri e poi trovate ecco trovate i libri interessante qui c'è il mio libro prima istanza quello che è uscito che è un mattone da 1100 sulle riconfinazioni poi trovate altri questo che avevo scritto con altri due trovate un libro sul GPS altri libri sulle riconfinazioni trovate un bel libro sul geometro Aurelio Costa sulla biografia di Aurelio Costa questo è un posto solo per la spedizione perché il libro è gratuito e soprattutto trovate qui in alto se cliccate scarica i testi sacri dei grandi maestri di passato trovate questa bella serie di libri storici avete Alfonso Scarso un libro meraviglioso scritto a mano da un grande topografo qui padovano trovate questo geometra Pietro Allaria che è un geometra che ha tracciato niente meno che il traforo del Monte Bianco e trovate questo che è considerato anche questo un vangelo famosi atti del convegno di confezione del 1995 dove hanno scritto Aurelio Costa e Perdomenico Tani trovate i libri di Perdomenico Tani trovate un'altra volta in pdf quello di di Aurelio Costa se lo avete in pdf se lo trovate e poi qui noi andremo avanti ad inserirne altri trovate poi soprattutto documenti documenti cosa vuol dire che noi qua io Sergio mi sta dando una mano enorme abbiamo messo dentro una serie per esempio sulle riconfinazioni poi ne metteremo anche SP non guardate che ci sono riconfinazioni perché chiaramente noi deriviamo dal sito riconfinazioni.it per cui il materiale grosso è di quello ma qui andremo avanti anche con altre materie topografiche ovviamente per cui sui rilievi eccetera qui trovate per esempio perissie relazioni trovate la perissia che ho appunto fatto vedere prima di quel caso di usucapione ecco quindi trovate la perissia scritta da me da un collega e chiaramente qui sono sbiancati tutti i dati tranne quelli nostri come geometri e trovate la perissia che abbiamo scritto su questo caso di riconfinazione per esempio trovate poi una che abbiamo scritto insieme io e Sergio su una CTP in Lombardia in cui c'erano mappe teresiane questo era un CTP che ci ha chiesto una consulenza per contrastare una CTP anche questa interessantissima perché c'erano queste mappe teresiane per cui bisognava un po' spiegare al giudice come si doveva fare eccetera qui trovate veramente molto molto materiale utile quindi varie perizie trovate anche una CTP una CTP vera e propria di eh questo qui non mi ricordo più chi era Sergio perché era un CTP romano mi sembra di roba comunque ce n'è una di Sergio una CTP per causa civile insomma le trovate tante ma dopo qui trovate per esempio le istruzioni catastali per chi fa catastro le istruzioni che sono state messe dal catastro trovate poi ecco relazioni e convegni relazioni e convegni qui adesso Sergio bisogna fargli un monumento ogni tanto perché però te lo faremo post mortem Sergio perché adesso allora spero che sarà moltissimo tempo perché Sergio cosa ha fatto qui ha preso io gli ho dato se andiamo sugli eventi allora andiamo risorse eventi e apriamo su un'altra scheda lui cioè io tutti questi eventi qua avete c'erano anche degli avvocati c'erano persone cioè c'erano esperti anche della parte di diritto c'era veramente grossi esperti specialmente vedete in questa epoca qui in cui giravo per l'Italia questi relatori qui hanno tutti quanti esposto chiaramente ai convegni una loro relazione che poi mi hanno dato la possibilità di pubblicarlo ovviamente e io le ho passato tutto sto maloppo a Sergio e Sergio man mano adesso ha cominciato a partire da quelle relazioni lì e inglobarle diciamo su dei documenti in cui fa una sintesi diciamo molto ben fatta prendo quei aspetti giudici alla causa di confinazione se la scaricate questa è una cosa meravigliosa perché lui ha preso tutte quelle relazioni giusto Sergio l'hai fatto così mi pare sì sì ho usato quelle relazioni qualcosa che avevo anche io però ho cercato di fare ecco di mettere insieme tutta la situazione cercando di dargli una logicità ecco perché e quindi dei ceni storici natura differenza tra le azioni l'articolo 950 e poi le varie azioni che si possono intraprendere la differenza con le azioni di rive insomma cose ripeto interessantissime che derivano dall'esperienza di Sergio sicuramente ma poi da tutte queste relazioni che abbiamo che io ho accumulato in tutta questa lunga carriera di convegni eccetera ecco per cui qui ce ne sono delle altre cartografie della regione Lombardia qui questa è una relazione che era stata fatta a Pavia da un geometra molto in gamba che conosce bene la storia cartografica Lombardia delle mappe teresiane e via via insomma ecco se siete appassionati qui avete modo di sbizzarrirvi ecco a sfido il sito credo di averlo fatto vedere abbastanza tutto tranne la parte consulense che è l'ultimo tema di cui di cui parliamo per cui diciamo qui qui l'idea guarda poi le trovate nelle slide ma adesso sono già le 5 per cui cerchiamo di andare via più veloci l'idea è nata un po' appunto da io Corrado e Sergio perché noi da questi 5 anni in cui facciamo i corsi online sulle confinazioni siamo stati contattati molte volte da colleghi che dicevano ma io ho un caso però non sono molto esperto non è che mi date una mano ecco in questi casi qui noi cosa abbiamo fatto abbiamo fatto un webinar con il collega interessato quindi il webinar vuol dire che possiamo cioè lui può mostrarci a video i documenti le foto le mappe possiamo vedere i luoghi su google earth perché c'è anche la possibilità di vedere su google earth ci esponeva il caso e noi gli davamo i nostri consigli i nostri suggerimenti su come risolverlo poi non sempre si la cosa si risolveva con un webinar perché poi lui doveva magari andare a fare il rilievo doveva integrare eccetera poi se ne faceva un secondo e via andare da questa esperienza qui abbiamo detto ma allora perché non creiamo una pagina un sito dove si possono fare queste consulenze chiaramente non è che si possono essere fatte gratis noi in molti casi abbiamo fatte gratis perché così per aiutare i colleghi perché poi magari in questi casi ci lasciamo presentare i corsi ma ovviamente sono consulenze vere e proprie allora qui vedete la logica è questa qui se voi ritenete di essere esperti su una o più materie di competenza di geometria perché io ho voluto passare da riconfinazioni punto it a top geometri la riconfinazione era troppo riduttivo perché riguardava solo le riconfinazioni mentre invece il geometra può fare molte altre attività per cui per quello abbiamo voluto cambiare il nome e passare a questo sito se vi ritenete esperti cliccando qui vi viene fuori la mail col mio indirizzo mi mandate il vostro curriculum e naturalmente mandatemi pure quello che avete così redato voi ma poi per noi fa testo quello certificato del consiglio nazionale che trovate nel sinf nella vostra pagina sinf ecco perché uno può scrivere quello che vuole ma ecco lì viene proprio precisato la formazione che uno ha fatto e tutte le notizie ufficiali scritte nel nel curriculum certificato se mi mandate questo curriculum voi verrete inseriti qui adesso noi ci siamo soltanto noi tre ciascuno di voi avrà una sua scheda per questo io entro sulla scheda di Corrado vedete un curriculum breve diciamo che spiega brevemente cosa si occupa Corrado quali sono le sue competenze qui invece scaricate il curriculum diciamo quello proprio effettivo certificato del consiglio nazionale mi sembra che me l'hai mandato quello Corrado se no me lo devi mandare perché fa testo un po' quello qui vedete no ecco mandamelo così mettiamo quello ecco qui vedete che ciascuno di voi ciascun consulente può decidere lui il prezzo è qui adesso noi abbiamo messo 50 euro ma è così non prendetelo come né troppo alto né troppo basso cioè l'abbiamo buttata lì per fare questa presentazione ecco poi ognuno di voi può diciamo stabilire il prezzo orario del webinar cioè qui praticamente la logica è quella di dire cioè di rifare quello che abbiamo fatto noi cioè qui c'è un geometra che vuole avere una consulenza di Corrado su un tema tra di quelli su una competenza di Corrado qui dichiara di avere e che poi lo certisca nel curriculum e che lui può prenotare la consulenza prenota la consulenza chiaramente deve mettere il suo recapito il telefono qui metto il mio così chi vuole prende nota 3202896417 cioè questo qui sarei io sarei qui uno che vuole chiedere una consulenza a Corrado di quanto di cioè presumo che mi servono due ore ora che gli spiego il caso ora che lui mi dia le dritte giuste mi servono due ore prenoto e vado a pagare naturalmente qui si va qui si va sempre qui sull'e-shop tecnobit ma si va a pagare una volta che uno ha pagato praticamente a Corrado arriva la 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 arriva la notifica via mail ma poi se la troverà anche se lui va qui adesso dove ero qui perché su qui stiamo tanto facendo se lui va qua su consulenze richieste troverà le consulenze che gli sono state adesso non guardate queste che sono fittizie le consulenze che gli sono state richieste per cui lui praticamente avendo il vostro praticare capito potrà chiamarvi lui vi chiama vi mettete d'accordo su quando fare la meeting online la conferenza online qui nella slide vi ho scritto che per mettervi d'accordo sapete che ci sono vari software anche gratuiti qui io ne ho citato alcuni vediamo dove era ecco qua c'è Skype che è quello più utilizzato adesso ho visto che c'è anche questo hangout meet c'è anche zoom questi sono gratuiti poi diventano a pagamento quando superi certi limiti ma sono gratuiti io qua vi ho scritto che sempre su quella pagina lì metterò le guide che spiegano come usare come scaricarlo come installarlo come usarlo eccetera in modo che poi possiate usare questi software di conferenza di conferenza online diciamo una volta dimmi Corrado andiamo avanti un po' con Pregeo così sì ma ho quasi finito non capisco cosa vuoi dire? no 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 volevo che andassimo avanti anche un po' più spediti Pregeo ovviamente le persone chiedono c'è Pregeo sì sì ok c'è Pregeo sì sì purtroppo oggi sforiamo di brutto comunque qui avete capito lì mettete d'accordo per fare la consulenza e poi qui praticamente se durante la consulenza potete cioè uno può anche mettersi d'accordo per fare una prestazione extra cioè perché noi in certi casi no oltre al webinar poi c'è stato chi ci ha detto ma ascolta fammi te la relazione quelle relazioni che abbiamo visto prima che abbiamo fatto io e Sergio e le abbiamo fatte noi e allora lì abbiamo concordato un prezzo quindi qui durante il webinar può essere concordato un prezzo e qui il consulente cioè se uno dice guarda ti faccio io non so la relazione faccio io il rilievo ti costa 500 euro qui lui può lui creare la consulenza qua sul sito sulla sua pagina e poi può andare diciamo a fargliela pagare quindi l'utente che chiede la consulenza va lì la paga e poi appunto viene fatta una prestazione vera e propria ecco questo è quello che c'è da dire se l'ho detto in maniera straveloce non c'erano domande qui Sergio no 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 nulla di diciamo che molti chiedevano poi il discorso pregeo no il discorso pregeo ci arriviamo subito ci arriviamo subito di fatti qui purtroppo forse due ore erano poche però purtroppo è così allora qui diciamo noi come vedrete qui sul sito corsi se ci torno cosa dice che ho stato disconnesso qui ho troppa roba aperta riepriamo il sito corsi vi accennavo prima ecco c'era già qua quindi chiudiamo un po' di roba perché sennò qui va a finire che si inchioga su tutto come prima quindi chiudiamo tutta questa roba qui ecco qui il sito corsi vedete qui noi terremo qui se entrate dentro trovate anche le date e le lezioni terremo un corso di due lezioni il 28 aprile e il 5 maggio in cui presenteremo il nuovo nuova versione di pregeo esaminando sia tutta la parte diciamo così io la chiamo un po' burocratica quindi nuove prestazioni eccetera che adesso vedremo nelle slide e sia anche i casi quindi questo forse sulle slide viene meglio ecco qui poi vi avevo messo il discorso anche se volevate usare la cartografia sul tablet android sul tablet android oppure sull'ipad insomma ecco qui appunto diciamo sull'ide pregeo abbiamo scritto qui niente che pregeo questa versione qui la potete capire dalla mascherina in sella di pregeo prevede una serie di controlli una serie di procedure nuove c'è questa risoluzione uno è che è quella della serie delle entrate chiaramente alla quale noi ci siamo basati per cui abbiamo seguito esattamente questa e andremo man mano a sviluppare i punti di questa risoluzione per cui adesso qui non so se sia il caso visto l'orario di andare così a sindacare su ognuno ditemi voi Sergio Corrado perché la presentazione è veloce perché giustamente alcuni chiedevano di pregeo è ovvio che qui questo è un seminario dove presentiamo poi il corso ecco ovviamente non c'è nulla di cioè qui non diamo nessun tipo di informazione in più di quello che trovano poi sulla risoluzione quindi questo è un elenco qui ecco c'era questa nuova funzionalità che permette di modificare il nuovo pregeo in riga zero senza perdere la proposta perché invece prima si perdeva la proposta adesso qua poi Sergio Corrado vi lascio un po' a voi l'idea è quella di vedere un attimo quali sono le novità del nuovo pregeo diciamo Sergio se vuoi commentarle qui brevemente una ad una tanto sono poche questa funzionalità qui per dire se vuoi commentarla questa qui è per il terreno del corpo beh questa qui sono le novità che sono state messe per il catastro penso tavolare quindi la possibilità di inserire il numero di partita il corpo tavolare per poter poi nel catastro tavolare viene fuori il catastro deve mettere poi il giudice deve mettere il decreto quindi il catastro fatto l'atto deve diciamo trasmettere e quindi il pregeo nuovo ha questa nuova implementazione quindi sì sì ok andiamo avanti veloce perché tanto qui c'era questa poi che consente qui era per le ditte sì per le società quindi la possibilità di mettere adesso chi firma l'atto prima bisognava inserire in relazione prima sì diciamo che chi firmava l'atto non veniva identificato nel pregeo e quindi bisognava identificarlo in relazione tecnica sì andiamo avanti intanto qui è solo un elenco ecco questo è il discorso di presentare in telematico le nuove procedure per quanto riguarda l'atto in sostituzione o l'atto di rettifica quindi queste qua sono quelle procedure che vedremo nel corso sì e questo era il discorso delle l'esplicazione quando ci sono PF all'interno del triangolo fiduciale che non si non si utilizzano perché o sono stati modificati o sono spariti e quindi le modalità che bisogna utilizzare quando si trovano PF che non vengono utilizzati questa è la famosa nuova categoria macro categoria la presentazione sì per le le rappresentazioni particolari ecco questi si usa per gli edifici di culto i cimiteri e poi eventualmente per poter inserire adesso servitù strade interpoderali quindi diciamo tutte quelle particolarità in mappa che erano tratteggiate che prima non si potevano inserire sì Davide qui dice no Marco dice novità studici reali sì Marco ci arriviamo perché proprio il nucleo del programma poi è proprio questo dei cashback qui adesso c'era un'altra un'altra parte qui sempre con l'RT no Sergio sì la possibilità di inserire qui era la possibilità di inserire delle strade tratteggiate ecco quindi dei tratteggi all'interno della proposta e la richiesta a sister di un libretto approvato cosa che prima non c'era questa è una novità bella si può richiedere i libretti delle misure direttamente da sister di pregeo di altri tecnici mi sembra che adesso abbiamo la limitazione di 5 al mese per ora bisognerà dare la motivazione per cui si richiede allegare il modello una di queste tre che è una di queste tre motivazione sì ok e poi appunto quello che chiedeva Marco perché poi il nucleo del corso la parte particolare del corso sono appunto i casi sui nuovi controlli sulle superfici e qui vedete che allora adesso questi qui è proprio così una prima bossa dei casi che presenteremo quindi qui presentiamo una serie di casi se non so se vogliamo Sergio commentarli man mano chiaramente non sono ancora tutti adesso stavamo concorrando stavamo iniziando a testare per quello che avevamo spostato leggermente diciamo il corso che doveva essere a metà aprile e abbiamo spostato poi alla fine stiamo testando un attimino tutti i casi possibili con il perimetro chiuso di pregeo e con appunto le sì qua Sergio se vogliamo semplicemente commentare il titolo più di tanto per andare via veloci ecco sì no ma sono però sai Gianni se volessero farvi vedere ma sono solo una parte cioè nel senso non è spettivo di tutto ecco questi qui sono solo sono una serie di casi sì sì una serie di casi cioè li vedremo poi diciamo bene nel corso ecco nel corso l'idea era quella di proprio esplicitarli con pregeo e fare proprio dall'inizio alla fine il tutto ecco vederli bene TM con fabbricato corpato al terreno a 20 sufficio nominale SN fabbricato a cui a cui a cui intera serie viene frazionata da un terreno SN rilievo su particelle SR di inserimento fabbricato a corpato tutta la casistica su rilievo particelle SR inserimento ancora qui non c'è tutta stiamo ancora con Corrado testando adesso qui tutta non l'abbiamo ancora fatta sì questa è una bossa che stiamo predisponendo Sergio Corrado questi sono altri casi ancora appunto che stiamo predisponendo quindi ecco il diciamo il corso presenterà tutta questa serie di casi che sono poi questi riferiti a questi nuovi controlli della circolare dell'agenzia per cui ecco il nocciolo del corso sarà quello ieri sera diciamo che probabilmente non ci basterà forse andremo un po' a lunghi non ci basteranno le due lezioni nel caso dovesse succedere ne faremo una terza vedremo in che forma eccetera ecco perché siamo resi conto che poi i casi sono parecchi per cui e va bene insomma direi che forse possiamo anche chiudere qua qui cosa c'era Sergio che avevamo detto ma sì sui fabbricati rurali qui il pregeo dava diciamo sui fabbricati rurali ancora esistenti quando si trova come bisogna comportarsi quando capita di dover trattare particelle che sono ancora assegnate come fabbricato rurale o come porzioni di fabbricati rurali ecco quindi qui c'è un attimino poi come comportarsi anche queste situazioni qua le vedremo poi nel corso ecco quindi sì 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 e anche quella prima forse riguardava riguardava sempre il passaggio vuoi commentare un attimo questa Sergio così abbiamo finito guarda poi dopo no qui allora è praticamente come trattare diciamo i casi in cui c'è il fabbricato l'urbano e ai terreni no è come trattare il discorso della di diciamo di identificare con un identificativo al catastro terreno e al catastro fabbricato la situazione ecco quindi adesso c'è una funzionalità in pregeo che consente diciamo di mettere di fare identificare col fabbricato eventualmente che è segnato al catastro urbano e di cui appunto dobbiamo dobbiamo tenere conto ecco sì beh qui mi ero dimenticato prima di dire qui vedete la mappa di core map è stata portata sopra google earth vedete in trasparenza poi posso vedere la mappa sopra google earth ecco questa stessa funzionalità sarà invece trasportata proprio qui su top geometry per cui diciamo qui sulle mappe di top geometry la mappa di core map sarà esportata praticamente qui sopra ecco capite quindi e questa è effettivamente una cosa interessante per chi fa riconfinazioni per esempio perché ovviamente potrà vedere la mappa sia sopra google earth che già la vedrebbe ma anche sopra la cartografia cartografia catastale attuale quindi vedere le differenze tra in questo caso tra la mappa di impianto e quella attuale eccetera ecco e beh tornando al corso invece qui se volete iscrivervi vedete andate su corsigeometri.it lo trovate qui in questa posizione adesso probabilmente poi magari sposteremo prima perché questo è già stato fatto martedì scorso entrate dentro e qui vedete adesso io ho risultato già iscritto se vi collegate voi trovate iscriviti al corso e vi iscrivete tranquillamente il costo avete visto è di 40 euro per queste due lezioni poi vedremo probabilmente se riusciremo a starsi dentro le 4 ore se no diventeranno due e mezza due e mezza ma non chiederemo assolutamente nessun nessun sovrappresso salvo restando ripeto che se invece nel frattempo vi abbonate all'abbonamento Learn allora lì potete iscrivervi a quello come a tutti gli altri corsi perché qui vedevo che c'era una domanda prima ecco l'abbonamento Vittorio se l'abbonamento ha corsi da libero accesso e l'utilizzo nel futuro delle mappe catastrali con tutte le sue informazioni che abbiamo visto oggi ma le mappe catastrali sono gratis Vittorio in ogni caso quindi anche se non ti abboni quelle le hai sempre e attualmente hai anche le famose cartografie di sfondo in più che sono gratis anche quelle poi probabilmente come dicevo queste qui quando avremo inserito tantissime CTR quando abbiamo inserito molte cartografie locali e allora lì diciamo quello farà parte dell'abbonamento mappo oppure costerà 20 euro se uno vuole averlo a parte ecco capito quindi adesso io non so secondo voi Sergio Corrado abbiamo dimenticato qualcosa o possiamo no l'unica cosa adesso per il test vedi bene come formularlo ah beh troppo sull'ultima parte qua si si beh il test i colleghi dicono cioè non è che abbiamo seguito molte cose sull'ultima parte quindi cerco un po' di modularlo il test si il test lo farò semplice allora visto che parliamo di test visto che parliamo di test torno un attimo qui sul discorso del mondo GIS qui dell'agenzia territorio beh questo si forse vale la pena di dirlo perché è un'informazione tecnica che se no poi usate le cartografie dell'agenzia e quando vi viene fuori lì la frasetta se accettate la licenza non sapete neanche di cosa si sta parlando ecco per cui magari questo velocemente ecco allora mondo GIS ecco GIS cosa vuol dire vuol dire Geographic Information System la sigla in inglese è un sistema informatico progettato per ricevere immagazzinare elaborare e analizzare informazioni di tipo geografico però basato su un database quindi cioè io vedo le informazioni in maniera grafica anzi diciamo geografica ma sotto c'è un database ecco questo è il concetto del GIS molti lo tendono come sinonimo di sistema informativo territoriale per cui uno dice è il GIS del comune di Bassano del Grappa no il GIS sarebbe in realtà solo i software sviluppati la cartografia cioè sistema informativo si chiama sistema informativo territoriale però poi viene usato molto come sinonimo poi qui ecco se andate sul sito dell'agenzia del territorio dopo ci andiamo troverete questa sigla WMS che vuol dire Web Map Service questa è una specifica che è stata definita da questo consorzio OGC Open Geo Special Consortium che è un consorzio in cui sono dentro circa 300 componenti tra governi industrie private università che ha definito questo standard no per che definisce cos'è una mappa e cos'è la rappresentazione che bisogna dare informazioni geografiche visualizzate su un browser web ecco questo è in pratica questa specifica per cui l'agenzia del territorio ha seguito ovviamente questa specifica l'inspire è diciamo infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa che è stata istituita con la direttiva europea questa è questa infrastruttura che è finalizzata a supportare la politica ambientale mediante opportune misure che garantiscono la conoscenza la disponibilità l'interoperabilità dell'informazione territoriale ecco questo è perché poi da questa direttiva europea è scaturito anche poi il discorso della dell'agenzia delle entrate perché fa parte di questa politica europea di mettere in esposizione le informazioni in forma geografica e questo ve lo dico perché nel test ci sono un paio di domande su questo qui vedete se andate sul sito dell'agenzia geoportale sia le entrate eccolo qua trovate poi tutte queste cose le trovate scritte molto bene qua qui viene anche detto cosa si intende per consultazione cartografica catastrale vms trovate la licenza eccetera ma adesso la licenza ve la faccio vedere io perché appunto abbiamo detto che qui c'è questa licenza che ha questa sigla strana cc è il consorzio che ha così partorito che partorisce le licenze e poi ha queste sigle che in parte le abbiamo dette prima quindi qui poi se clicca cioè qui si va anche sul sito e questo è creative commons che è il consorzio che così crea questo tipo di licenze e qui è sintetizzato cosa si può fare riprodurre distribuire comunicare al pubblico esporre in pubblico rappresentare eseguire citare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato ma con le limitazioni che abbiamo poi in parte detto allora bisogna sempre dire chi è l'autore questa è la clausola by vedete qui cc è il consorzio by è questa clausola qui nc vuol dire che non può essere fatto scopo di lucro non commerciale ed nd vuol dire che non si possono creare opere derivate quindi non possiamo prendere la cartografica catastale che ha diciamo partorito l'agenzia delle entrate e andare a manipolarla modificarla e lì ci rientra anche un po' il discorso di fare la stampa in scala ecco perché io non faccio la stampa in scala ma faccio la stampa in scala di un'opera che è sua dell'agenzia delle entrate quindi lì potrai capire se questa è consentita o non è consentita questo mio collega esperto di queste cose probabilmente dovremmo interpellare direttamente l'agenzia per farcelo dire da loro in modo da non prenderci poi denunce varie e basta quindi direi che abbiamo visto anche questo domande qui ce n'erano beh ne ho viste una marea oggi ma d'altronde qui Sergio Corrado c'erano domande ce ne sono vecchie non è possibile rispondere a tutti però ce ne sono sì Cosmo dice ho letto il regolamento seminario non parla di nessun test obbligatorio a fine seminario pieno per un collega ma no qui c'è un test da fare ecco adesso visto che siamo arrivati alla fine qui voi se andate entrate sul sito qui stasera tardi o domani mattina se non ce la faccio troverete il bottone dovete fare il test le domande saranno molto semplici saranno inerenti a quello che abbiamo visto oggi per cui non è che ci sono domande molto tecniche o concettuali anche perché oggi non è che siamo andati troppo sul tecnico abbiamo visto cose molto così non dico superficiali ma insomma non molto tecniche però il test c'è ecco perché se non fate il test non prendete i crediti dove acquisiamo materiale didattico ma allora tu voi non avete seguito l'inizio materiale didattico qui stasera c'era un bottoncino file e cliccando scaricherete uno zip con dentro materiale didattico ecco se avete domande varie perché quindi avete fatto una marea io poi magari me le riguarderò con calma qualcuno risponderò andate sul sito top geometry andate sul forum e e qui fate le vostre domande anzi facciamo così guardate facciamo così perché è più semplice andate sempre qui dentro sulla vostra pagina del seminario andate sul forum del corso quindi le scrivete che sono domande qui vedete potete poi creare un nuovo argomento eccetera per cui qui in sostanza potete creare gli argomenti poi all'inizio troverete anche una guida che vi spiega come fare a usare il forum e andate a scrivere lì ecco se non vi rispondo prima diciamo ecco questo è da fare perché domande sono tante o se no meglio ancora se non ce la fate in sto caso ancora usare il forum qui vedete vi prendete nota qua del mio indirizzo email o del mio numero di cellulare e poi mi mandate una mail e vi spiego bene io come fare andare a scrivere sul forum oppure vi rispondo già direttamente ecco perché posso anche rispondere direttamente quindi quando verrà pubblicata la versione android top geometry ma c'è già la versione android top geometry cioè top geometry gira già dopo chiaramente se hai un tablet vecchio o no ma io che ho un tablet o un samsung di due anni fa mi gira tranquillamente così come anche sull'iPad poi per esempio Sergio mi diceva vero Sergio che a te non funzionava forse no non mi funziona il forum il top geometry funziona il forum sull'iPad un po' vecchio non funziona allora lui dice per chi non ha potuto accedere dall'inizio non posso fare per seguire il seminario puoi fare che tu stasera qui stasera ripeto molto tardi o domani trovi il posto del bottone webinar trovi il bottone video clicchi e parte la registrazione i tre credit formativi del corso sono legati al superamento del test sì ma allora non avete seguito nessuno perché all'inizio qui io l'ho spiegato tutte ste robe qua ti ho spiegato ma alcuni hanno avuto difficoltà forse proprio all'inizio sai quando allora guardate se non è che posso ripetere guardate il video registrato qui nella prima parte iniziale ho spiegato bene come si fa a fare il test superarlo prendere i crediti tenetevi in mente che la spedenza è il 30 di aprile per cui dopo non lamentatevi dopo io ho sempre quello che si sveglia tre mesi dopo e dice ah ma io mi eri scritto al corso adesso il test non è più non è più sostenibile per forza il test scade capito è possibile chiudere no no adesso chiudiamo tutti guarda Paolo non preoccuparti ma io direi non so adesso Sergio però cosa dite possiamo chiudere qua a sto punto sì sì direi sì quindi ripeto segnatevi il mio numero di cellulare e la mia mail per cui se avete altri dubbi me li scrivete qui a questo inizio di mail e o mi chiamate a questo numero e niente spero che questo seminario sia stato il vostro gradimento mi spuso un po' per quell'impasse che abbiamo avuto a metà però poi fortunatamente durante la pausa si è risolto quindi alla fine insomma mi pare che sia andato tutto abbastanza bene e io spero di ritrovarvi al corso su una nuova versione di pregeo che ripeto parte il 28 di aprile e sono due sono due martedì comunque cioè finisce nell'arco di una settimana e direi che non ho altro da dirvi se non di augurarvi una buona serata vi auguro anche di proseguire con il periodo qui di internamento nella maniera più piacevole possibile anche se mi rendo conto che piacevole tanto non è e mi auguro soprattutto che stiate tutti bene e che rimaniate in salute mi auguro e vi auguro a tutti voi che questo periodo qui finisca presto perché io che sono abituato a fare un'ora di camminata al giorno e un giro in bici su in montagna due volte a settimana sono mi sento veramente malissimo a non poter più fare queste cose e per cui auguro a tutti che questa cosa finisca presto e lo spero ardentemente vi saluto tutti e lascio i saluti a Sergio e Corrado anch'io saluto tutti i colleghi ah no scusa Corrado vai beh beh buona serata a tutti io dico solo questo sì anch'io saluto tutti buona serata tutti i colleghi grazie a tutti grazie a tutti